Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, siete sintonizzati su CSL Soccer Fiumicino, praticamente un testo coda, quello dell'undicesima giornata del campionato di promozione, siamo ovviamente nel GMA, una gara molto complicata, difficilissima per la squadra di Cato Sperduti che si trova di fronte alla capolista del campionato che arriva da un percorso di tutto rispetto visto che ha tenuto 8 vittorie nelle 10 partite giocate, quindi si trova in testa la gradatoria con ben 25 punti accumulati fino a questo aumento, 3 punti di vantaggio sul cervello e 6 addirittura sulla terza posizione dove c'è il grifone giallo-verde, 2-1 l'ultimo successo nei confronti del canale moderno, mentre la CSL Soccer è in un momento difficilissimo, quasi una crisi, c'è stata la sconfitta domenica scorsa 4-1 con il pesciano-umana, poi sconfitta infrasettimanale 6-2 contro il grifone giallo-verde, ma andiamo subito con le informazioni, iniziamo con gli ospiti del Fiumicino, numero 1 Malon, numero 2 Alessandro Reale, numero 3 Rasseni, numero 4 Benedetti, numero 5 Bove, numero 6 Cordova, numero 7 Renementucci, numero 8 Trimiliti, numero 9 Forcina, numero 10 Di Meglio, numero 11 Pischetta, il tecnico Luigi Di Duoco. Passiamo alla CSL Soccer, risponde numero 1 Duguetto, numero 2 Lamorgia, numero 3 Tomaselli, numero 4 De Santis, numero 5 Della Gamera, numero 6 Gibaldo, numero 7 Barzellotti, numero 8 Peveri, numero 19 Saraceno, numero 10 Cispito, numero 11 Vittorini, il tecnico Riccardo Sperduti. Tutto pronto per dare il segnale di apertura di questa partita, l'arbitro sta sistemando le ultime disposizioni e le ultime formalità prima della partenza del match, l'arbitro che è Edoardo Trebbi della sezione di Roma 1, il primo possesso sarà per la CSL Soccer, vediamo già pronto con Ivan Saraceno sul punto di battuta per dare il fischio d'inizio a questo match che ovviamente vede come favoritissima per la vittoria il Fiumicino che arriva da tre vittorie consecutive, mentre come detto la CSL ha vinto solamente una volta nelle nove partite giocate perché ricordiamo c'è sempre il match da concludere, quello con il Trolfa, aspettiamo l'indicazione della data per la prosecuzione della partita, per esempio il via di questa partita che è appena iniziata, tra le notizie tattiche da andare a individuare dobbiamo vedere se la CSL Soccer si schiererà con la difesa a tre, ma al momento non sembra esserci questa situazione, Tomaselli sta giocando a sinistra e la Morgia dovrebbe andare a stazionare nel ruolo di terzino destro, la palla recuperata dalle maglie rosse che indossano questa maglia nuova, non l'avevamo mai vista fino a questo momento per la CSL Soccer, una maglia rossa con delle piccole strisce bianche, ricorda un pochino la maglia del Liverpool degli anni 80 quando ha vinto anche la Coppa dei Campioni, una data che sicuramente non vuole ricordare il mister Riccardo Sperduti da buon tifoso onomanista. Recupera la palla il Fiumicino al volo, poi di testa ci va Francesco De Santis, il Rotta Vailer che l'anno scorso ha giocato nella seconda parte del campionato con la maglia della Cornet, tra l'altro c'è stato anche l'interessamento della CSL Soccer, trattative che sembravano ben avviate, poi alla fine è arrivato il colloquio di De Santis con il mister Del Canuto che è riuscito a convincere il classe 98 ad approdare nella squadra rosso-blu da Quignese. Primo corner per i padroni di casa, si avvicina Riccardo Peveri per andare alla battuta, tra l'altro abbiamo anche visto sui social del Fiumicino andare a indicare lui come l'uomo più pericoloso della CSL Soccer per questa partita e speriamo che ovviamente si possa anche di fare dopo gli ultimi errori dagli 11 metri. Peveri ha battuta del corner, di testa interviene Forcina, poi Michele Vittorini, tiro strozzato, palla che rimbalza più volte sul terreno di gioco e termina fuori. Sì è proprio Forcina, è proprio lui Mirko Forcina, ci aspettavamo questa direzione perché raccontiamo un pochino per chi non segue molto il calcio di lettantistico. Qualche settimana fa il Fiumicino ha giocato una partita a Tolfa perdendo contro l'undici di Andrea Pacenza e Forcina è stato sostituito durante l'incontro e si è molto arrabbiato con mister Di Luocco, tant'è che a fine partita la società aeroportuale ha deciso di praticamente escludere, di mettere fuori l'ossa Forcina e di rinunciare a lui per tutto il campionato. Sembrava questa l'indicazione data dal Fiumicino, però due settimane fa c'è stato il ripensamento da parte della società e quindi Forcina è tornata a disposizione, domenica scorsa ha giocato qualche minuto nel finale di partita contro il canale Monterano e quest'oggi torna come titolare, per cui altra brutta notizia per la CSL Soccer, quindi diciamo così vanno ad affastellarsi tutte quante, non solo il fatto di affrontare la prima classifica nel momento più difficile del campionato, ma anche quello di ritrovarsi Forcina che non ha giocato nelle ultime settimane e torna quest'oggi a disposizione di mister Di Luocco totalmente, a totale servizio. Palla lunga controlla, Gibaldo poi arriva del Duchetto, questa maglia che abbiamo visto nella scorsa stagione, color un azzurrino molto particolare anche se è tendente decisamente al viola, poi calzoncini e calzettoni verde abbastanza acceso, un accostamento romatico che non ci convince più di tanto, però l'importante è che pari del Duchetto. A sinistra c'è Tomaselli, spinge lo stantuffo, con il numero 3 sulle spalle la consegna a Peveri, il pittore, poi anticipato il terzino della CSL Soccer dall'uscita dai blocchi di Alessandro Reale, che è un classico 2002, un elemento che si sta disimpegnando per il Fiumicino in questa prima parte di stagione, dopo piove leggermente sul Flavio Gagliardini, c'è anche la situazione meteorologica che inciderà in questa partita, sappiamo ovviamente dei problemi che ha avuto Cirecchia, che è stata davvero colpita dalle forti piogge degli ultimi giorni, ieri soprattutto nel tardo pomeriggio, nella serata davvero una bomba d'acqua si è abbattuta su Cirecchia, cosa che poi si è ripetuta verso le 4 di notte, poi fortunatamente verso le 6 di mattina ha smesso, per cui c'è stato il tempo per il campo del Flavio Gagliardini che in erba sintetica, davvero un terreno quasi di ultima generazione, ha avuto la possibilità di asciugarsi, tant'è che precedentemente si è anche disputata la partita dei campionati giovanili, il derby tra CSL Soccer e San Pio X, ma si trattava del DLF. Attacco del Fiumicino, quest'oggi indossa questa maglia blu scuro, blu nevi quasi possiamo dire per la formazione di Ruocco, dai pali esce Molon, lui che per tanti anni ha giocato con la maglia dell'Aranova, ma è stato accolto benissimo da parte del club rosso-blu, sia l'Aranova che il Fiumicino che la CSL Soccer, sono tutti quanti rosso-blu, per cui dobbiamo stare attenti, questa indicazione Gipardo rischia tantissimo, ma la dà sul sinistro del Dughetto che decide di gettare via questo pallone, lo scaraventa lontano, poi di prima di meglio a centrocampo c'è Benedetti, a destra Alessandro Reale che tenta un lancino avanti in direzione di Peveri, poi quasi incispica Trimeliti con un compagno di squadra, la palla che termina fuori, si trattava di Forcina che si era gettato sulla fascia destra, Alessandro Reale, di testa Tomaselli, Peveri, poi nuovamente Fiumicino, spirito anticipato, stava per andare sul pallone come una zanzara, attacco degli ospiti con Pischedda, occhio a Pischedda, uno dei giocatori più talentuosi di questo Fiumicino, lui che tra l'altro qualche tempo fa ha realizzato un grandissimo gol al volo di sinistro, lui che è destro, l'ha fatto domenica scorsa proprio contro il canale Monterano, abbiamo anche visto l'intervista a fine partita, diciamo all'arbitro che è Edoardo Trebbi della sezione di Roma 1, gli assistenti invece sono Andrea Giovagnoli di Roma 2 e Francesco Passero di Roma 1, da una confronto di Luca Passeri che è venuto l'altra domenica per la gara col pesciaromana, calcio d'angolo per il Fiumicino sul tentativo che è arrivato dal lato corto dell'area di gore, anzi praticamente all'interno nell'area di gore, adesso piove più copiosamente sul terreno di gioco in questo match che state sapendo agli occhi di Alessandro Sacco, 6 e 20 sul cronometro, avanzano le torri del Fiumicino c'è Forcino e mezzo contrastato da Gibaldo, va alla Luca del Toghetto con i pugni, poi Barzellotti, Bart che cerca di andare successivamente sul pallone di testa, prova ad andarci ancora la CSL Soccer con la morgia, Barzellotti passa davanti, va quasi in crossover, Barzellotti fa tutto da solo, allarga a sinistra per avanzare la scena, non la tiene in campo, ovviamente la palla va via, veloce, sul terreno di gioco con questa pioggia che ovviamente invita i giocatori ad alzare spesso la palla, a tentare soluzioni aeree, questa è una situazione del campo pesante che può anche favorire la CSL Soccer che è sicuramente meno dotata dal punto di vista tecnico, ombrelli in campo per i fotografi, siamo sebbene agghindato Simone Cervarelli, Barzellotti, guarda la porta e mette in difficoltà il portiere Molon, occasione che è stata avviata bene da Gianluca Barzellotti che ha colpito d'interno potentemente il pallone, che è andato quasi colpito sulla valvola, come si diceva qualche anno fa, Peveri ce l'ha sul mancino Peveri, ancora lui che ha giocato in giro per l'Italia, c'è Dario Spirito, il papà di Penelope, sbaglia il passaggio e riparte il fiumicino in transizione, la palla a sinistra in direzione di Di Meglio e conosciamo l'anno scorso ha giocato con la maglia del Santa Marinella, è venuto anche qui al Fraio Magliardini ma senza successo perché in quella circostanza vinse per 3 a 0, l'undici che era allenato da Daniele Fracassa, a destra c'è Michele Vittorini, Vago Montreno fermato dal terzino Rasseni, questa forse è la unità di formazione per il fiumicino che ha il prese Rasseni che fino a questo momento non ha quasi mai giocato come titolare, oggi impiegato al posto di Camanni che invece si trova in pacchina, attacco della capolista, scatta Pischedda, ce l'ha sul destra, buona per Pischedda, mezza tuo avversario, Pischedda entrando nel rigore, va quasi sul fondo di reazione di Eugenio della Camera, è la palla che va fuori, è entrato quest'oggi Eugenio della Camera, il capitano della CSL Soccer dopo l'infortunio che l'ha fermato praticamente per un mese, un problema al tendine d'Achille è stato rischiato quest'oggi da parte del tecnico Riccardo Sperduti anche se ovviamente le sue condizioni fisiche non sono al 100%, si riprende col match, si va praticamente dall'angolo, c'è un fischio dall'arbitro, la palla credo sia terminata fuori, non c'è stata indicazione di un fallo, quindi si può procedere, anzi in realtà forse fuori gioco, mentre qui facciamo un pochino fatica a vedere, poi oggi è ancora più complicato, c'è sicuramente del Ducchetto quando siamo giunti al decimo minuto del primo tempo, quando siamo ancora sul risultato di 0-0, primo di rapporta, l'ha fatto la CSL Soccer, con Gianluca Barzellotti due minuti fa, la conclusione che ha messo un pochino in difficoltà il portiere Molon, però dobbiamo dire ovviamente che non si tratta di una palla-golla gigantesca per i Leoni che adesso conquistano la punizione, non c'è in campo di Gennaro, in settimana si è anche parlato di qualche polemica tra lui e il mister Riccardo Sperduti che abbiamo anche ascoltato telefonicamente, ha detto che c'è stata qualche parolina non tenera di Gennaro, aveva però anche detto che Mercolino non è stato schierato una partita di Coppa, praticamente diciamo così per punizione, però ha detto che era a disposizione per questa partita, l'abbiamo visto durante il pregara a Luka di Gennaro, però non c'è nemmeno oggi, quindi dovremmo vedere se si tratta di una scelta tecnica, oppure se c'è qualche altra motivazione, rischia tantissimo Rasseni, ha rischiato di metterlo in porta, ha praticamente colpito il pallone che è andato più veloce verso Molon, calcio d'angolo comunque sia per la CSL Soccer, ha rischiato tanto che prende Rasseni, classe 2000, che gioca soprattutto come terzino a destra, ma oggi è impiegato come terzino a sinistro, il numero 3 del Fiumicino, angolo va alla battuta, la CSL Soccer si va in mezzo, Dario Spirito colpisce male con la fronte, la manda a lato, potrebbe essere l'occasione per la CSL Soccer per sbloccare il risultato, già due potenziali occasioni, andiamo quindi a segnalare, forse questa è la prima reale palla-goal per i Leoni, che hanno cercato di realizzare la rete del vantaggio. Già due occasioni, questo è un tormentone di Riccardo Sperduti, nelle interviste che abbiamo realizzato, ma ha ragione a dire questo, se è questo che pensa, abbiamo visto nelle ultime partite, la CSL Soccer crea tantissimo, 7-8 palle con la partita, ma non le sfrutta, sia perché non riesce ad essere cinica, ma anche perché non riesce ad avere un centravanti di duolo, quest'oggi vediamo Spirito a sinistra, scusate, vediamo Saracena a sinistra, Vittonini a destra e Spirito che sta giocando come centravanti, ovviamente a volte si è andata anche come falso 9, al volo la bicicletta di Peveri, Spirito di testa, poi nuovamente Fiumicino con Bove, Forcina, Di Meglio, Pischedda, girano il pallone, alla fine c'è stato il passaggio filtrante proprio da parte di Luca Di Meglio, Saraceno, il bello impossibile, Peveri, tutta a destra per Michele Vittorini, che si ferma, la danza di Vittorini, Simon per la scatola magica che è Dario Spirito, cercano di conquistare il fallo, cercare di fare questo, Dario Spirito vuole sfruttare ovviamente il suo talento sui calci piazzati, sulle palline attive di Dario Spirito, che è un piede molto importante, per poter cercare di fare male al Fiumicino tramite queste situazioni, in cui ovviamente si può notare meno la differenza di valori tra la penultima forza del girone, ovviamente quella che è la capolista del campionato, c'è Michele Vittorini, crosserà nell'area di rigore, Saraceno verso sinistra, arriva anche la Morgia, che può sfruttare la sua altezza, Spirito, così come Gibaldo, così come anche la presenza di Barzellotti all'interno dell'area di rigore, rimane dietro della camera, palla in mezzo e provato a colpire Barzellotti, non c'è riuscito, si è andati da Molon, attenzione all'uno contro uno, De Santis è freddissimo come un ghiacciolo, riesce ad evitare la percussione filtrante da parte della squadra ospite con di meglio, Tomaselli, Eugenio della Camera, il generale alza la testa, al volo spirito, Barzellotti lascia il compito alla Morgia, che arriva, rischia di incespigare, forse quella è una zona un pochino messa peggio del campo, abbiamo visto anche durante il riscaldamento, subisce un pochino di più la pioggia che cade, ovviamente lì siamo anche vicino alla tettoia, magari l'acqua che sbatte sulla tettoia arriva verso il campo da quella parte, forse può essere anche questa una spiegazione del fatto che da lì si riesce a giocare meno bene, invece qui a sinistra la situazione sta tenendo abbastanza bene, anche se ovviamente, l'abbiamo detto, il campo è pesante. Il Fiumicino con Bove, che scambia con Alessandro Reale, giocatore della classe 2002, stanno ad attacco, oggi impiegato come terzino, la scorsa stagione ha giocato con l'SFF Atletico in Serie D, quest'anno invece la squadra in gara di Fiumicino si è trasferita a Fiuggi. C'è Riccardo Peveri, è buona per lui, a sinistra la spinta dello Stantuffo, ovvero parliamo di Antonio Tomaselli, trova la zona per Saraceno, che prova ad accentrarsi, Saraceno, rasoterra a destra per Barzellotti, finta, va sul sinistro, De Santis, Rottweiler, a destra per Michele Vittorini, che punta Rasseni, Michele Vittorini, Rasseni lo ferma regolarmente, Rossellate di gore, nessuno può andarci, però ancora possesso per la CSR Soccer, con Riccardo Peveri, prova a tirare di viazione, esterno della rete, calcio d'angolo per la CSR Soccer. Conquistato da Riccardo Peveri. Le indicazioni di Ruocco, dalla panchina, del tecnico che è già stato in passato al Fiumicino, arriva Spirito per la battuta del corner, ma bisogna ancora recuperare il pallone, ci pensa Clementucci, a dargliela, di Ruocco, che era stato chiamato in corsa nel 2016 per sostituire Natalini, pensate, da lì è riuscito a conquistare 15 vittorie consecutive con il Fiumicino, quindi assolutamente ha un ruolo di primo piano per quanto riguarda proprio la società aeroportuale. Arriva la palla nell'area di rigore, Molon non si fida del bloccaggio, Barzellotti murato da un avversario di meglio, va quasi sulla linea del falloterale, sull'estremo settore del campo, la getta in avanti, Peveri al volo, con praticamente la suola della scarpa, riesce ad evitare la risalita del campo da parte dei giocatori allenati da Luigi di Ruocco. Fallo laterale per il Fiumicino, con le mani in asseni, a cercare Pischedda, Peveri di testa alza la parabola, liscia, Saraceno, si gioca ancora al volo, ancora la bicicletta di Peveri, spirito a un po' arrivarci e si salva il Fiumicino, ma sta valendo una buonissima CSR Sock, fino a questo momento tiene bene il campo e non permette al Fiumicino di far sfruttare le situazioni di attacco con il suo trio davvero di altissimo profilo. Forse c'è una rimessa irregolare del Fiumicino. Vediamo cosa succede. No, si deve riprendere sempre con il fallo laterale per la squadra vestita in blu. Si va sul versante d'attacco, l'abito che fischia, è calciata la palla praticamente sulla rete, per fortuna che c'è la rete, altrimenti avrebbe rischiato di colpire qualcuno in tribuna. Tribuna non piena come in altre partite, peccato. Forse anche il tempo affermato, qualche appassionato. sempre bello venire a vedere giocare la prima in classifica. In tanti all'area di rigore si cercherà una torre all'interno degli ultimi 16 metri, pronto di meglio a crossare. In mezzo ci sono cinque giocatori del Fiumicino, è salito anche Bove. Forcina si porta verso sinistra, Forcina non ci va! È la palla che passa pericolosissima per la CSR Soccer del Ducretto. Comunque ha controllato con autorità la Guardia Svizzera, 18esimo del primo tempo, a 4-0-0 qui a Flavio Gagliardini, più CSL rispetto al Fiumicino. E questo ovviamente è un pochino una sorpresa per noi, visto che pensavamo che il Fiumicino potesse già dai primi scorci del match dominare. Ma invece non è così, le squadre hanno voglia di giocare, ovviamente nei giorni scorsi, vista la situazione metodologica, abbiamo anche pensato se potesse esserci la voglia, diciamo così in virgolette, alla fine decidere l'arbitro di non giocare questa partita. L'arbitro che parla con spirito, cioè praticamente è spirito che gli consegna la palla agli avversari, anche se poi sta la scena, ci pensa, perché se la trova nei suoi pressi. Per entrambi le squadre hanno bisogno di giocare, la CSL Soccer comunque sia con una situazione di questo genere, in cui il campo allentato può avere più risorse per bloccare il Fiumicino e d'altro canto il Fiumicino è in un grande momento di forma, per cui vuole cercare di sfruttare questa situazione, andando a cercare la quarta vittoria consecutiva, possibilmente anche di allungare in classifica, anche in previsione della gara di domenica prossima contro il Cerveteli di Daniele Fragassa. E poi c'è anche il fatto che Parini è squalificato, per cui in caso di l'invio di questa partita avrebbe saltato in realtà la sfida contro il Cerveteli, non quella di oggi, come prevede il regolamento, mentre invece in caso di sospensione salterebbe sempre questa, visto che, come ho detto, il nuovo regolamento prevede la prosecuzione dal momento dell'interruzione, così come accadrà per Tolfa-CSL, e poi ricordiamo che la CSL ha un calendario abbastanza pieno di impegni, visto che poi giocherà il 26 contro il Grifone Giallo-Verde, qui Alfredo Cagliardini nel ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia di promozione, ma non credo ci sarà margine per recuperare, si parte dal 6-2 dell'andata, bisognerebbe vincere 4-0. Vittorini prova a tirare, è fuori di poco occasione per i Leoni, andiamo a segnalarla, non l'ha toccata Molon, non mi è sembrato esserci il tocco anche se è stata qualche lamentela, ma comunque sia senza convinzione particolare di Michele Vittorini. Minuto 19, il tiro di Vittorini, fuori di poco, che poteva andare a ingannare il portiere Molon, pioggia fitta a questo momento, ma comunque sia non crea particolari problemi ai giocatori che riescono a disimpegnarsi senza timori di sorta. Barzellotti riesce a controllarla, poi ricordiamo che la CSL mette tanti impegni, e diciamo anche che poi a dicembre dovrà recuperare la partita con il Tolfa, e non potrà avere gli eventuali arrivi nel mercato di dicembre, visto che si bloccano le liste per la prosecuzione delle partite, alla data dove era previsto originariamente il match. De Santis, Vittorini, Simon in surplus, davanti prova a consegnarla a Pevedi, poi c'è Spirito, adesso nuovamente per questa volta Saraceno, non per Vittorini che si è portato un pochino dietro, tenta la finta, Saraceno se ne va via, fa in area di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro, si prosegue, è Clementucci, che la getta lontano, Forcina che la schiaccia, De Santis in scivolata nuovamente Forcina, che qualche anno fa ha fatto 32 gol in un campionato con il Fiumicino, una bandiera di questa squadra, sicuramente la notizia del suo dio il Fiumicino ha avuto una grande enfasi, poi ricordiamo che lui per venire proprio al Fiumicino ha fatto tantissimo, perché qualche anno fa stava giocando con, come se chiamo all'azione, c'è una punizione conquistata da Spirito, che sta giocando una partita molto intelligente, andando a disturbare, a conquistare queste punizioni, perché ovviamente sono tutte palle pericolose, che fanno perdere secondi, e quindi meno attacchi, a disposizione dell'undici ospite, quest'oggi qui al Viale Guido Baccelli, diciamo qualche anno fa, parliamo ovviamente dell'attaccante Mirko Forcina, era con l'alba longa, voleva svincolarsi per apportare il Fiumicino, però non aveva permesso da parte del club, e quindi ha creato anche una raccolta fondi, a cui si è unito anche Alessandro Florenzi, che ha donato due sue maglie, e il ricavato è andato a Forcina, che quindi si è svincolato dalla ballonga, doveva portare proprio al Fiumicino, Peveri sul punto di battuta, i consigli di spirito, vediamo se ci sarà un tiro sul primo palo, quattro in barriera per il Fiumicino, c'è anche Barzellotti, parliato più Peveri, funziona per un mancino, Peveri, calcio altissimo, palla che va alta sopra la traversa, peccato non è riuscito a dosare, il suo impegno su questo calcio, è la palla che è andata alta, così l'idea c'era, l'idea secondo me era quella giusta, però purtroppo per lui non è andata a genio questa situazione, però più copiosamente sul Gagliardini, i questioni in meteo erano queste, anche da parte della protezione civile, però piogge tra le 11 e le 13, proprio nell'orario di gioco del match, però non temporali, che potrebbero essere una situazione molto difficoltosa, si procede con De Santis, il raso terra, il giro palla della CSR Soccer, ricordiamo che tra l'altro i campi in erba sintetica vengono anche creati proprio per essere sempre asciutti, tant'è che spesso lo faceva anche Fragassa l'anno scorso, ce lo ricordiamo, faceva bagnare apposta al campo, per fare in modo che fosse più veloce il gioco da sua terra. Peveri, uno scambio di pace con Benedetti, punizione per Matteo Benedetti, per il classe 95, è stato anche capitano, e lo è anche oggi capitano, è stato anche più volte capitano della squadra, è ospite, come detto in questa gara dell'undicesima giornata, del campionato di promozione, si va da Del Dughetto, gestisce bene il dosaggio del pallone con il sinistro, c'è ancora iniziativa degli ospiti con Cordova, Valerio Cordova, il classe 91, che ha giocato anche in Serie C con la maglia del Gubbio, che può anche essere schierato da un metterzino destro, lui che è arrivato a pochi giorni dalla conclusione del mercato, al campionato praticamente iniziato. La Morgia, traversone in avanti, di testa al Fiumicino, si impegna, anche Trimeliti per recuperare il pallone, non c'è nessuno in rigore, quindi facile uscita per Luciano Molon, che conosciamo, ho visto venire a Ciechia, con la maglia della Nova negli anni passati, di petto, Forcina, la sponda però non serve, Tomaselli la tiene in campo, Tomaselli mette la terza, non trova Spido, che voleva la palla sul piede, anche Saraceno, non ha visto di buon occhio questa idea di Tomaselli, però ovviamente ci può stare un errore durante la partita, soprattutto del ragazzo giovanissimo come lui, dello stantuffo, a sinistra attacco del Fiumicino, con Di Meglio fermato dalla Morgia, ovviamente sta giocando molto bloccato, ma qua c'è da far male una difesa a tre in alcuni momenti, Tomaselli libero di andare a salire sulla fascia di pertinenza, Di Meglio, Luca Di Meglio, anche lui papà, uno dei papà di questa partita, assieme a Spirito, cross della rigore, arriva Benedetti, non la trova perfettamente, non riesce a, forse potrebbe anche tirare al volo, però era difficilissimo quel tipo di situazione, un cespica da solo Tomaselli, rimbalzo, diciamo così, fasullo per lui, e quindi falo laterale, per gli ospiti, che vanno ad attaccare, sul versante di destra, e ora stanno guadagnando campo, dopo un inizio di partita, favorevole ai leoni, ora, il Fiumicino sta cercando di alzare il baricentro, c'è un fischio arbitrale, punizione per la squadra di Riccardo Sperduti, che è stato anche espulso, mercoledì scorso, questa è una notizia, assolutamente, non siamo abituati a vederlo, essere cacciato da parte dell'arbitro, tre minuti della fine, sul sesto gol del Gifone Giallo-Vedre, ha protestato, in maniera decisa, nei confronti del direttore di gara, perché secondo lui, era in netto fuorigioco, il gol è concesso alla squadra della Guardia di Finanza, quindi è stato espulso questa notizia clamorosa, che è arrivata dal campo dei romani, punizione, De Santis, si avvicina per la battuta, siamo giunti al 26esimo minuto, è sempre 0-0 il risultato, Spirito di prima, la dà a Barzellotti, di viazione, va nuovamente Spirito, di meglio, c'è ancora la CSL Soccer, con De Santis, marcatura delle entite, quelli del Fiumicino, c'è Vittorini, Vittorini, lato corto dell'aria di Giori, Vittorini, può andare in mezzo, ne supera uno, non supera il secondo, Trimeliti gli va addosso, ancora l'attacco dei Leoni, con Barzellotti, che la schiaccia praticamente a terra, non riesce a tentare una conclusione valida, verso la porta avversaria, da quest'altra parte c'è Forcina, se la porta però fuori, si arrabbia con se stesso, fallo laterale, per la formazione vestita in maglia rossa, vediamo anche Tommaso Valente, presente a bordo campo, per seguire gli sviluppi del match, abbiamo anche visto Carmine Gaeta, che ricordiamo, non può giocare questa partita, perché è infortunato, e vedremo se riuscirà a tornare prima della pausa natalizia, c'è stato un fallo, un giallo, dato a un giocatore del Fiumicino, se non sbaglio Cordova, protesta sicuramente Vittorini all'indirizzo del direttore di gara, ovvero Trebbi, vediamo se è proprio lui, che si rialza in piedi e protesta, o se forse di tutto è stato Vittorini a essere stato ammonito, sì, il giallo per Miguel Vittorini, quindi prima ammonizione di questa gara e punizione per il Fiumicino, da come se ne ha mostro l'abito, per esempio inizialmente che stava dando il cartellino al giocatore del Fiumicino, che era rimasto a terra, si trattava di Valerio Cordova, classe 91, poi Benedetti, ma c'è De Santis, lancio di Vittorini, di reazione di Cordova, che rattannesca Saraceno, si ferma, l'alza, quasi da giocatore molto talentuoso, poi Valterra Saraceno, forse un colpito direi, colpito però al momento, qui ha già perso praticamente il pallone, colpo fortuito, ovviamente sono andati lì addosso, entra in campo Pino Antonucci per le cure del caso, botta con lo scarpino, forse anche con i tacchetti, su Ivan Saraceno, che si tocca il ginocchio, vediamo in panchina di Certo Sperduti, che ovviamente si è coperto con il capuccio, ora chiama il rapporto De Santis, per cui indicazioni nel pacchetto, nel fazzoletto di Mediana, poi c'è anche Della Camera, che ovviamente vada a beverarsi, poi scherza con De Logo, lanciandogli dell'acqua, c'è anche Tomaselli, ma lui ovviamente si trova lì, perché gioca proprio nella posizione di terzino sinistro, ancora a terra Saraceno, ricordiamo che siamo giunti al ventinoesimo, della prima frazione, vediamo che la Certo Socca, arriva dalla netta sconfitta, 4-1 contro il Pesce Romana, unico gol di Peveri, cinque sconfitte nelle ultime sei partite, e per i Rosso-Blu, Civita Vecchiesi, in classifica i Leoni, sono al penultimo posto della gradatoria, con solamente cinque punti incamerati, nelle prime nove partite, ovviamente non consideriamo la sfida dello Scoponico, in tolfa, meno sei, meno sei della zona salvezza diretta, per cui è importantissimo, non perdere terreno, non perdere quota, dalla zona tranquillità della gradatoria, altrimenti si complicherà questo campionato, perché stanno iniziando a fare punti le formazioni, che sono davanti in classifica, rispetto all'undici di Riccardo Sperduti, viene preso in controtempo, Peveri da Tomaselli, di parte Fiumicino, che perde il pallone della Camera, va verso sinistra, prova a andare come un trattore, poi il tocco di Reale, che ferma la corsa di Eugenio della Camera, che torna in difesa, e va a dare il 5 ad Antonio Tomaselli, attacco dei padroni di casa, con Spirito, che perde il pallone, Peveri, Peveri, vediamo se si inventa qualcosa, va quasi sul fondo, c'è Vittorini, solamente lui, e la rigore, poi lotta, praticamente, da duello rusticano, sulla zona del fallo laterale, a cuora sarà sceno, lo scambio con Riccardo Peveri, che vede nei suoi pressi, anche Benedetti, c'è il, non c'è il calcio d'angolo, c'è la rivessa dal fondo, per Luciano Molon, in panchina, Pino Antonucci, c'è Ciro Gozzolino, c'è anche Umberto d'Angelo Antonio, si va al cerchio di centrocampo, con De Santis, non stoppa benissimo il pallone, e va a terra, parte di meglio, che va a destra da Forcina, Forcina, fa inserire i compagni di squadra, nella rigore, Forcina è pronta con il cross, e la spara potentemente, la parata di Stefano del Dughetto, da quest'altra parte, Saraceno, la tiene in campo, c'è un fuorigioco di rientro, credo, però bisogna battere dietro il centrocampo, bisogna battere da dietro la linea del centrocampo, perché il fuorigioco non può esserci, nella propria metà campo, per cui, non aveva ragione di essere, la battuta, da quest'altra parte, infatti si va da dietro, con la rimessa in gioco di Bove, che scambia con Valerio Cordova, poi Benedetti va a dare qualità alla manovra del Fiumicino, abbiamo passato la mezz'ora, a destra c'è ancora Forcina, ma forse un fuorigioco, infatti Forcina, inizialmente sembrava lamentarsi, con i guardalini, poi alzato pollice alto, come approvazione per il gesto fatto da guardalini, indicazioni da parte di ministra di Ruocco, che chiede ai suoi di stare più attaccati, parla soprattutto con gli attaccanti, che forse lasciano troppo spazio alla manovra della CSL Soccer, Spirito, ha fatto fallo in attacco, una spinta sull'avversario, si rattava di Bove, Marco Bove, parliamo di un classe 98, che ha giocato anche con la maglia dell'Ostia Mare, che è anche un grande tifoso, della Lazio, ha dichiarato di essere, di ispirarsi, ad Alessandro Nesta, e come da Lidotto, ma anche a Francesco Acerbi, che ha anche fatto colli nazionale, contro la Bosnia, di destra, lui che è mancino puro, controlla Gibaldo, e va verso destra, diviazione, sul rilancio di Bracco Baldo, Barzalotti perde il pallone, trime litera di conquista, a sinistra c'è Pischedda, che va a terra, conquista punizione Pischedda, e tra l'altro, è grande amico, amico per la pelle di De Nicolo, che però quest'oggi non è presente in formazione, non c'è nemmeno Parini, metto squalificato, sconta la seconda giornata di squalifica, quest'oggi punizione comunque sia per il Fiumicino, otto vittorie, un paleggio, una sconfitta fino a questo momento, la sconfitta arrivata sul campo del Tolfa, tre vittorie consecutive, solamente sette gol subiti per il Fiumicino, si va con la punizione, palla che circola l'area di vigore, e la morgia, ci mette la chela, fallo in attacco, abbiamo visto delle maglie allungarsi, l'arbitro ha indicato la punizione, l'arbitro Trebbi, che alla sua nona presenza stagione, ha diretto Pescia-Santa Maniella, vittoria della squadra di Raffaele Morelli per 1-0, poi il successo anche del canale Monterano, di misura 1-0 sul Gallese, che al momento ha solamente un punto in classifica, e quindi ha distante 4 punti dalla CSR Soccer, che ne ha 5, altro Trebbi che ha iniziato ad arbitrare a 17 anni, è anche socio dell'associazione Santi Pietro e Paolo, di lui si dice che è anche molto religioso, infatti è stato anche guardia palatina d'onore in Vaticano, controlla il fiumicino dalla propria retoguardia, verticalmente non riesce al passaggio per Reale, i due Reale, Alessandro è in campo, invece l'altro non è stato nemmeno convocato, parliamo di Matteo, che è un centromatti di classe 2001, Saraceno, deviazione da parte di Bove, si va a lunghi, De Santis alza la parabola, Tomaselli a sinistra, deviazione da parte di Clementucci, anzi Trimeliti, chiedo scusa, che ha deviato la mandata del fallo laterale, Federico Trimeliti, centrompista di qualità, che è arrivato in estate dal Palocco, appena cambiato allenatore, fallo su Forcina, un po' i fili d'erba, forse la sabbietta, che è presente sul terreno di gioco, che è cosparsa sulla schiena di Mirko Forcina, vuole dimostrare che sta lottando molto con i dimensioni avversari, di sponda sta giocando, colloquio tra Benedetti e l'arbitro, infatti si lamenta anche Trimeliti, che dice che ci sono troppe chiacchiere in campo, e deve pensare più a giocare il Fiumicino, siamo giunti al 35esimo, forse è anche un atteggiamento che ci fa pensare, che probabilmente gli ospiti hanno, non dico preso sotto campo, così non stanno affrontando al 100% l'incontro, però c'è l'attacco, a pieno organico del Fiumicino, Cordova, Benedetti, Benedetti alza la testa, va tutta a sinistra, dove c'è, si tratta di Clementucci, non riesce a giocarla bene, riparte Vittorini, Spirito, il fallo che non c'è, intervento duro, quello di Valerio Cordova, l'arbitro che interrompe il gioco, Cordova che anche ha giocato in Serie D, con Sestrese, San Benedettese, Tavolara, Nissa e Gaeta, poi per motivi di lavoro, ha dovuto rinunciare al calcio di alto respiro, ha fatto anche parte della rappresentativa di Serie D, Cordova che vanta 40 presenze, proprio nella quarta divisione italiana, vediamo di Gennaro che sta seguendo il match, da sotto la tettoia, che porta agli spogliatoi, di meglio pronto per la punizione, l'ex anche della Pescatori Ostia, che ha conquistato la finale della Coppa Italia di protezione, perdendo col Montalto, fischio dell'arbitro, palla lunghissima, troppo lunga, ha provato ad impegnarsi Cordova, però c'è stata l'opposizione di La Morgia, da parte della Stella Cometa, che ha evitato guai, sulla corsia di destra, diciamo così, sulla zona di destra, è l'area di rigore, forse è più corretto dire, stiamo entrando nel segmento finale del primo tempo, ha smesso di piovere, o perlomeno più vigine a questo momento, sul campo intitolato a Flavio Gagliardini, 36 e 20 sul cronometro, sempre 0 a 0, però Fiumicino fino a questo momento, non ha creato particolari palle e gol, a parte il tiro di Forcina, c'è Michele Vittorini, prova a tirare, parata di Molon, ennessimo tiro della CSL Soccer, che ci prova, sta tirando, con i suoi attaccanti, soprattutto, però Molon è vigile, attento, su queste situazioni, tra parte Deduchetta ha fatto la stessa cosa, proprio su Mirko Forcina, si cerca di meglio, c'è un fischio dall'arbitro, una situazione precedente, e punizione per i padroni di casa, controlla Clementucci, va a sinistra, dove c'è ancora Di Meglio, che fa viaggiare il pallone, che però esce dal campo dove si trovava, nella zona di pertinenza Mirko Forcina, indicazioni verso Barzellotti, da parte di Mister Sperduti, che dice proprio a Gianluca Barzellotti, di avere meno fredda, e meno fretta, nei suoi atteggiamenti in campo, troppo volitivo, troppo carico forse Barzellotti, in alcuni frangenti del match, troppa voglia di fare, che forse un pochino frena, la volontà della CSL Soccer, di incamerare questi punti, Tomaselli, sbatte sul Reale, De Santis, Peveri, Peveri si aggira il pittore, poi Saraceno, prova ad acentrarsi, sbaglia il passaggio per Tomaselli, che si era portato in avanti, poi un flipper con Peveri, che conquista, il calcio d'angolo addirittura, non ho visto male, qualche protesta, e coinvolge Saraceno, non ho capito sinceramente il motivo, per cui abbia espresso questi timori, 38 sul cronometro, quarto calcio d'angolo per la CSL Soccer, uno invece solamente per il fiumicino, questo a dimostrare, diciamo così, la testa che ci sta mettendo la squadra di Cardos Perduti, che non sta andando in difficoltà, spirito pronto per la battuta, c'è la morgia in mezzo alla rigore, così come Gibaldo, rimane dietro della camera, che non sale mai, non sta salendo mai questa partita, la morgia esce dai blocchi, si ferma, la palla sul secondo palo, Gibaldo non è riuscito ad arrivarci, superato da Bove, che è andato lì con il fisico, per evitare l'imperversata di Tommaso Gibaldo, che rientra in difesa, quindi, altra occasione, che ha cercato di sfruttare, la formazione patrona di casa, al volo, non riesce Pischetta a controllarla, il giocatore che ha già fatto tre gol in questo campionato, l'anno scorso ha anche fatto un bellissimo gol in sforbiciata, Salaceno, vediamo che cosa si inventa, Salaceno entra nella rigore, Salaceno, fermato, calcio di rigore, calcio di rigore per la CSL Soccer, il fallo, da parte del Fiumicino, quindi, tiro dagli 11 metri, per la squadra di Riccardo Sperduti, il fallo di Rasseni, che quindi, può consentire, ai giocatori, della squadra patrona di casa, per andare in vantaggio, tantissimi iconi conquistati, in questo campionato, da parte della CSL Soccer, se non sbaglio addirittura il nono, pensate, in due mesi, per una squadra che ha vinto solamente una volta, è una gran bella notizia, però, le statistiche, ci dicono altro, vediamo chi va, va Salaceno, contro Molon, la parata, non è possibile, non si può andare avanti così, quinto calcio di rigore sbagliato, in campionato, avevamo pensato, dopo i due golli in Coppa, di De Santis, e di Vittorini, che potesse cambiare la situazione, ma non può Riccardo Sperduti, sarà una furia, credo, durante l'intervallo, non si può, tutte le domeniche il rigore sbagliato, non te lo può permettere una prima classifica, non ce l'abbiamo con Salaceno, ma con questa situazione di squadra, nemmeno con Peve, non ce l'abbiamo con nessuno, ma non è possibile, sbagliare tutti questi tentativi, al minuto 39, il rigore sbagliato da Ivan Salaceno, parato da Molon, e qui dobbiamo dire, ci sono non tanti meriti per Molon, non per colpa sua, perché il rigore è stato battuto male, da Ivan Salaceno, centrale, se l'è trovata lì, Molon ha parato, Vittorini cerca di pensare subito all'azione, spirito, forse un fallo di mani, è l'arbitro che fischia, e quindi indica, però non va a dire niente a spirito, per cui, ha giudicato, non rilevante, e non pesante questa situazione, è stata anche qualche protesta, per il fiumicino, durante la concessione del calcio di rigore, lamentavano un tocco di palla, specialmente l'intervento sembrava sulla palla, però poi è franato da Seni, su Salaceno, quindi l'arbitro ha dato il calcio di rigore, altro, anche state proteste, le scorse settimane per Riccardo Sperduti, che insomma non ha molto condiviso l'operato arbitrale, verso la sua squadra, però ha detto non dobbiamo, non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a cambiare noi, il campionato, però se continua a sbagliare i rigori tutte le domeniche, non si può andare avanti così, di testa è andato Reale, Peveri, di prima su Reale che stava per calciare lontanissimo, Benedetti, lungo in avanti, al volo Pischetta, al volo anche Gibaldo, poi al volo anche Tomaselli, la palla che rimbalza dopo tanto tempo, ma è da sola, di testa alla morcia per fortuna, evita un possibile guaio, perché da lì si poteva anche tirare, e qui fallonetto di Trimeliti, l'arbitro si avvicina al centrocampista del Fiumicino, proteste vigorose dalla tribuna, va anche della Camera a parlare con l'arbitro, non c'è Giallo, viene a morire della Camera, per proteste nei confronti dell'arbitro, alla fine invece, rivedere un cartellino per il Fiumicino, è arrivato per la CSL Soccer, di luogo, indicazioni di movimento, per i suoi giocatori, 42-55, dobbiamo fare qualche statistica in settimana, su questi rigori della CSL Soccer, diventiamo un po' ripetitivi, però è ripetitivo anche il fatto di continuare, in questa situazione, che diventa un problema, questo è un problema, sicuramente di testa, così l'ha detto anche Riccardo Sperduti, la squadra sta bene fisicamente, però è di testa, che non riesce a fare il passo in avanti, per uscire da questo momento difficile, si riprende con la partita, pensiamo a questi ultimi minuti del primo tempo, 43-30, De Santis, Gibaldo alza un campanino, è clamoroso, e ne vedremo secondo me nella ripresa, che la stanchezza affiorerà, e con questa pioggia, si giocherà poco palla a terra, soprattutto per la CSL Soccer, sembrato spalla di Lamorgia, poi l'abito fischia, un po' tardivamente secondo me, la punizione per il Fiumicino, mancano 70 secondi, poi vedremo se ci sarà il recupero, forse un minuto, potremmo vedere, anche se non abbiamo visto nessun infortunio, durante la prima frazione proteste, del Fiumicino per la punizione, e dalla tribuna beccano, soprattutto Trimeliti, a questo momento Pischedda, diventa, centro nevralgico delle proteste, dei sostenitori civile vecchiesi, del Duchetto, la getta lontano, di testa reale, Peveri, ingannato dal rimbalzo del pallone, della Camera, alza la palla, di testa a Bove, che poi si bagna, nel cerchio di centrocampo, De Santis, fallo, De Santis, non abbiamo capito, ha dato una piccola mano, che si è allungata, poi De Santis molto arrabbiato, per stare tranquillo, perché rischi al giallo, è vero, il fallo non c'era assolutamente, però, comunque, se non fallo a centro di campo, non si può protestare più di tanto, 15 secondi, non vediamo, nessun intervento, forse, sta per terminare nel primo tempo, ultimo attacco, probabilmente, per il Fiumicino, prova a sgattagliolare, di meglio, con la sua tecnica, poi in mezzo, non riesce con il proprio passaggio d'esterno, quasi, c'è il fallo laterale, un minuto di recupero, per questo primo tempo, indicato, questa circostanza, da parte di Ciro, Gozzolino, battuto, il fallo laterale, poi, ancora, De Santis, Peve, di provare a mettere balla a terra, con il sinistro, nuovamente, Fiumicino, fallo di De Santis, in ritardo sull'avversario, e qui, questa volta, non si può dire nulla, infatti, De Santis, non, rivolge nemmeno lo sguardo all'arbitro, 30 secondi, forcing del Fiumicino, per andare in vantaggio nel finale, primo tempo, indica qualcosa a Benedetti, diciamo, andiamo tutti avanti, protesta, perché Saraceno non rispetta la distanza, Benedetti, verso la porta, del Dughetto, col polso, come c'è andato del Dughetto, non lo so, Saraceno, a destra per Michele Vittorini, sono due fortunati, sforcini a terra, e anche Clementucci, non ho visto sicuramente il motivo dei loro infortuni, forse sono infortunati tra di loro, ci sono infortunati in questa situazione, ovviamente vediamo del Dughetto, che è uscito, ha allungato il pugno, e l'ha gettata lontano, urla, da parte, credo di Forcina, si è alzato, viene chiamato il dottore, si preoccupa anche Vittorini, invita subito il massaggiatore, chiede il cambio, di meglio dice che va cambiato, in testa, grande dolore, si muove comunque, almeno per una cosa possiamo stare tranquilli, sicuramente grande dolore, forse, per andare a colpire di testa, ci sono scontrati, credo sia stata questa, che sicuramente non ho visto, perché stavo andando del Dughetto da quest'altra parte, sono andati a salire di destra sul cross di Benedetti, è uscito del Dughetto, gettandosi a terra, non so come, con l'istinto, addeggiato con il pugno, rischiando anche di essere colpito, da un piede avversario, ora, lecure del caso, e c'è anche, c'è anche Cordova, che dice che va cambiato, sostituzione, questa è una brutta, gatta da pelare, per il Fiumicino, c'è grande preoccupazione, per i giocatori del Fiumicino, si alza la macchina, anche quelli, della Cielo Soccer, per vedere cosa sta succedendo, per quanto riguarda, l'attaccante, della squadra Fiumicinense, quindi, vediamo, è appena tornato, domenica scorsa, ha riesordito, in campionato con, la propria squadra, lì c'è anche Barzellotti, è arrivato anche Molon, subito, si è gettato, sulla situazione, per vedere, cosa accaduto, c'è Tiziano Campari, a colloquio con, con Tomaselli, queste situazioni, tattiche, cercano di, di spiegarsi, Campari ha detto la sua, Tomaselli, gli sta, insomma, rispondendo con, quella che, quella che è la sua volontà, quindi, serve, c'è grande preoccupazione, ci vorrà ancora tempo, prima di poter andare, nella conclusione, di questo primo tempo, viene chiesta, la borsa, quella con, che c'è solo i medici, e anche Pino Antonucci, quindi, momento della partita, bloccata, praticamente, all'ultimo secondo, perché gli stava chiedendo, il primo tempo, e eccoci, applausi da parte del pubblico, mentre, Pino Sta per, riprendere il gioco, dopo, il brutto infortunio, però, non esce, non esce, Forcina dal campo, mentalmente, attenzione, forse, pro proseguire, si è alzato in piedi, un turbante, pazzesco in testa, però, rientrano in pachina, i massaggiatori, i dirigenti, delle Fiumicina, ma anche della Cessna Soccer, anche Pino Antonucci, è andato subito, da Forcina, per cercare di, aiutarlo, però, vediamo Forcina, deve entrare, ovviamente, da fuori, Forcina, non può stare in campo, deve rientrare, dalla linea del fallo atelale, abbiamo interrotto, ovviamente, collegamento, a qualche minuto, attesa che, si sistemasse la situazione, siamo ufficialmente, al 53esimo, nella prima operazione, dovrebbero ammarcare, tipo 20 secondi, del termine del primo tempo, vediamo se l'abito, interromperà subito il gioco, alla fine, praticamente, i giocatori, mi sono messi tanta paura, e, praticamente, hanno preso, 5-6 minuti, di pioggia, così, inutilmente, così possiamo dire, ovviamente, c'è questo fattore, che sta incidendo, allora, Forcina, prova di entrare in campo, si è ripreso, veramente, di molta paura, due o tre giocatori, del Fiumicino, hanno chiesto, alla macchina, di sostituirlo, però, hanno atteso, ancora un attimo, hanno andato a scaldare, ovviamente, qualcuno della macchina, però, alla fine, di entrare in campo, vuole già farlo subito, però, ovviamente, non può farlo, in questo momento, perché, c'è da attendere, permesso, per l'arbitro, attacca comunque, la CS Soccer, torniamo a seguire, gli sviluppi del match, c'è Tomaselli, che non tiene, però, palla in campo, vediamo se l'arbitro, fa finire, il primo tempo, con, questo segmento, particolare della partita, è stato dato, un minuto di recupero, però, alla fine, sono diventati otto, e diventeranno, anche nove, a questo, questo punto, con 30 secondi, al termine, il primo tempo, che finisce qui, è 0-0, tra CS Soccer, il Fiumicino, c'è anche il calcio di rigore, sbagliato, tra CS Soccer, al 39esimo, a fra poco, per la ripresa, di questa partita, di nuovo, il collegamento, nel Fabio Gagliardini, per questa gara, dell'undicesima giornata, tra CS Soccer, e Fiumicino, punteggio, è sempre di 0-0, dopo che, nel primo tempo, c'è stato un errore, un ennesimo errore, sul calcio di rigore, la squadra di Cato Sperduti, con il tiro di, Ivan Salaceno, al minuto numero 39, parato, dal portiere, Luciano Molon, e, nel frattempo, vediamo se, le squadre, possono riprendere, con, la partita, c'è anche, qualche discussione, vediamo l'arbitro, che sta parlando, con il tecnico Luigi Di Luocco, ma, non vediamo, al momento, in campo, Forcina, questo momento, sono in 10, in campo, quelli di Fiumicino, vedete, 4 in ripesa, 3 a centrocampo, 2 in attacco, ne manca uno, evidentemente, Forcina, o negli spoletori, a sistemarsi, a quella, la situazione, eccolo, eccolo, sta arrivando, a questo momento, Forcina, quindi, tutto rotto, alla partenza, della ripresa, dopo che, nel primo tempo, c'è stata la grande paura, gioco interrotto per 5 minuti, la prossima parte del pubblico, del Flavio Gagliardini, ecco, fa il suo rientro ufficiale in campo, dopo che, nel primo tempo, ha avuto uno scontro, con Clementucci, entrambi di destra, sono andati, a colpire, proprio con la fronte, in area di rigore, e ha avuto la peggio, tutto rotto, alla partenza, della ripresa, con il primo processo, che sarà il, via, nel frattempo, la rimessa in gioco, da parte di Andrea Pischedda, quindi Forcina, dopo che era stato a terra, per diversi minuti, in preda al dolore, in preda alle urla, e alcuni compagni di squadra, avevano richiesto la sua sostituzione, alla fine, ha deciso di rimanere in campo, abbiamo visto anche un'ambulanza, venire fuori, al Flavio Gagliardini, durante l'intervallo, non so, sinceramente, se era stata chiamata, proprio per, trasportare Forcina all'ospedale, ovviamente, questa è solamente una, nostra situazione, che segnaliamo, però, al momento, è ovviamente andata via, perché Forcina è in campo, sempre se ovviamente, c'è stata una situazione legata a lui, ma credo proprio di sì, perché gli altri campi, del, dopo l'oro ferroviario, non sono, non sono pieni di gente, sia il campo di calciotto, che il campo di calcetto, e i campi di tennis, ovviamente, non possono essere occupati, perché, c'è pioggia, quindi, nel tennis appena piove, non si può giocare, quindi, per ora, andiamo a segnalare questo, insomma, questo è quello che, ci è sembrato, poi magari, cercheremo di approfondire, la situazione a fine partita, ritorniamo, a parlare ovviamente di calcio, 0-0 il risultato del primo tempo, una CSL Soccer, che è riuscita a fare qualcosa in più, rispetto al Fiumicino, che però, nel quarto d'ora finale, nel primo tempo, ha avuto un po' di perversate, all'interno dell'area di rigore, e però non ha mai riuscito, a creare delle palle e golla, a parte quell'occasione, con il tiro, di Forcina, che era stato parato, del Ducchetto, ora ha interrotto il gioco, da parte dell'arbitro, con il fallo atelale, per la squadra aeroportuale, proprio con Mirko Forcina, riconoscibilissimo, con il suo turbante bianco in testa, il possesso, per la CSL Soccer, però dura solamente un secondo, perché il rilancio, di Eugenio della Camera, va a terminare, una zona di terreno, dove non ci sono maglie rosse, la divisa, indossata quest'oggi, da parte della formazione, cara al presidente, Vittadiano Villotti, palla lunga del Ducchetto, esce il blocco, e anticipa la corsa, di Antonio Clementucci, che si era gettato, il giocatore classe 2000, uno degli under, schierato per questa partita, sono quattro in campo, per il Fiumicino Reale, che è del 2002, Rasseni, che è del 2000, Boveda 98, e Clementucci del 2000, mentre per la CSL Soccer, gli under presenti, sul terreno di gioco, sono, la Morgia del 2000, Tomaselli del 2001, e Saraceno del 2000, attacco dei padroni di casa, con Riccardo Peveri, che vuole smistare, il proprio pallone, e va da Ivan Saraceno, non ha metto il triangolo che riesce, ma un triangolo inefficace, per andare a scardinare, la divisa del Fiumicino, Saraceno si prova, direzione di testa, calcio d'angolo, per la squadra di Riccardo Sperduti, è il quinto corner, in questa partita, quindi mantiene, un forcing, abbastanza pronunciato, all'interno della rigore, il team Civita Vecchiese, che ora, va a riversarsi la rigore, con Spirito, pronto per andare, alla battuta, con il suo destro, abbiamo visto anche, un tentativo di gol olimpico, durante, attenzione, Molon, con i guantoni, De Via, poi, c'è anche Trimeliti, Federico Trimeliti, il centrocampista, che gioca su tutto, sulla fascia, per oggi, sta, disimpegnandosi, come mezzala, praticamente, visto che vediamo, un atteggiamento, di un 4-3, per, il fiumicino, così come, per la CS Soccer, che si è andata a schierare, praticamente, a specchio, di meglio, per superare un avversario, si tratta di Tomaselli, di meglio, grandissima, inbuggata, per Forcina, che la prende Forcina, poi, decisce, debolmente, il suo, passaggio, e quindi, fortunamente, per la CS Soccer, il tiro di Di Meglio, la parata, di De Dughetto, senza nessuna difficoltà, ha provato il tiro a giro, l'attaccante, della squadra, ospite, di meglio, classe 93, che è anche papà, di una bambina, di nome Chloe, Spiro, l'altro papà, in avanti, di destra, Cordova, poi, Benedetti, Benedetti, a destra, per Forcina, che sta giocando, soprattutto, come esterno destro, in questa partita, con gli altri, che invece, vanno a stazionare, spesso, come centravanti, pallone, con metratura sbagliata, e potenza sbagliata, forse è più corretto dire, quello di Dicardo Pevere, il gioco che viene interrotto, da parte dell'Apito Trebbini, mano a terra, Marco Bove, il classe 98, ovviamente, ho sbagliato a dirlo, Bove non è under, perché i 98, non sono più under, quest'anno, quindi, sono solamente tre, gli under presenti, sul terreno di gioco, per l'undici, allenato da Luigi Di Ruocco, il tecnico, che è stato un grande giocatore, direttante, tra Sledì, ed eccellenza, nelle ultime settimane, dopo la Dio di Forcina, ha anche cercato di, inserire un falso, nove, all'interno dell'attacco, rosso-blu, aeroportuale, però, questo tentativo, non è stato premiato, per il tecnico, del Fiumicino, cross della rigore, di testa Pischetta, la parata, di Del Ducchetto, che ci arriva, sul tentativo, di Andrea Pischetta, che ha cercato, con la soluzione aerea, di fare male, al portiere, ex, della compagnia portuale, si va, da Antonio Domaselli, altro ex compagnia portuale, quindi, Riccardo Peveri, con Forcina, che va a disturbarlo, va in pressione, l'attaccante, del Fiumicino, recupera Benedetti, che prova a galloppare, Forcina, direzione, forse anche con il braccio, di Eugenio da Camera, fallo laterale, con il Fiumicino, che mantiene, abbastanza alta, la sua pressione, fallo di mano, di Tomaselli, quindi l'abito, interrompe il gioco, vediamo se va, anche ad ammonire, il terzino, Civitevecchiese, che protesta, all'indirizzo, del Guardaline, trattasi, di Andrea Giovagnoli, Andrea Giovagnoli, alla sua quinta presenza, stagionale, mentre per Passero, lui invece, è stato presente anche in gara, nel campionato Under 16 nazionale, e anche l'anno scorso, nella semifinale, di Coppa Italia 10 a Lenz, tra Unipo Mezzia, e Nuova Florida, Forcina, va la battuta della punizione, rosserà, all'interno della rigore, questo match, che stiamo seguendo gli occhi, di Alessandro Sacco, due in barriera, per la CS Soccer, c'è Vittorini, che si stacca, va in attacco, per non permettere, a tutti gli attaccanti, avversari, di andare, su questa punizione, reale, che si prende, la sua marcatura, il fischio, dell'arbitro Trebbi, per la battuta, di Forcina, la sua terra, De Santi, si allontana, poi il tiro, di Clementucci, Forcina, nuovamente, con il cross della rigore, del Duchetto, riesce a deviare, toglie la pala, dalla testa, dei giocatori avversari, che si scontrano, con Benedetti, che va in cespicare, nella zona, di Clementucci, quindi questa direzione, che andiamo a segnalare, al minuto numero 6, della ripresa, quando ricordiamo, al momento, il punteggio, è sempre, bloccato, sullo 0 a 0, c'è Dario Spirito, dietro, per Ivan Salaceno, d'esterno, arpione il pallone, trova a Bove, e quindi di meglio, sbatte su De Santis, fallo di mano, di Francesco De Santis, che viene, anche, in questa situazione, fermato, da parte del, direttore di gara, vestito di giallo, come consuetudine, per le partite, di quest'anno, dei campionati, di eccellenza, di promozione, ma anche, nel calcio 5, abbiamo visto, questa situazione, nel calcio 5, dove, per le squadre, ci vedono, chiesi, nel sabato, di campionato, un sabato, dove si è giocato, anch'esso, sotto la pioggia, sono arrivati, i due successi, quelle del, Civile Vecchia, a calcio, e anche, dell'Atletico di Rena, in trasferta, che si è imposto, per 3 a 2, sul campo, della Vis, Vidago, mentre, del Civile Vecchia, ha regolato, per 3 a 2, in casa, la squadra avversaria, dell'Olivi Village, mentre, c'è stata, la netta sconfitta, della Fuzzle Academy, che ha ceduto, per 8 a 1, sul terreno, di gioco romano, della Pisana, squadra molto pericolosa, che ha anche, creato, diversi grattacapi, alla formazione, del Civile Vecchia, guidata, da Simone Tangini, nello scorso turno, proprio, è stata impegnata, dal Tamagnini, al campo, di Campo dell'Oro, scusate ovviamente, per il gioco di parole, è davvero, arrivato in maniera, intempestiva, c'è il fallo del Ale, per la CSR Soccer, che va alla battuta, con Riccardo Aperi, calcione quasi, quello di, Matteo Benedetti, il fallo commesso, da lui, che, ha fatto anche la scommessa, in inizio stagione, ha detto che segnerà, 8 gol in questo campionato, ne ha fatti 2, buona media, gli auguriamo, di arrivare a questo obiettivo, però non di, arrivarci, tramite queste, questa partita, anche quella di ritorno, qui, per il resto, diciamo così scherziosamente, può fare quello che vuole, si sistema, praticamente, i capelli, e poi la palla è in mezzo, prova ad andarci la morgia, però, Molon, vestito di nero, ma anche di azzurrino, per quanto riguarda il tronco, blocca, e lancia a lungo, si va dal suo collega, Stefano del Ducchetto, che rimette in gioco, per Francesco De Santis, lui che è dichiarato, in passato, di ispirarsi a Daniele De Rossi, gioca il Fiumicino, quasi tutti i giocatori, presenti sul terreno di gioco, indossano, la maglia, maniche corte, segno che, le temperature, sono ancora abbastanza miti, per il mese di novembre, ma, sono altri problemi, che stanno riguardando, la situazione metodologica, di testa, ancora il Fiumicino, non sta piovendo, sul campo, di Viale Guido, Baccelli, intitolato a Flavio Gagliatini, fa lo laterale, per il Fiumicino, che va con Gabriele Rasseni, che li mette in gioco, va dietro, si affida, a Valeria Cordova, quindi, c'è anche Benedetti, con Bove, che si sgancia, andando verso destra, Pischetta, perde il pallone, raddoppiato, con Pevedi e Spirito, che riescono a divincolarsi, in quella circostanza, palla sulla tettoia, vediamo se qualcuno, prova a recuperarla, in realtà invece, si va, diciamo così, nello sgabuzzino, antistante, il campo di calcio a 5, presente, dietro, la tribuna, opposta, dispretto, alla nostra abbastazione, secondo tempo, che non sta avendo, palle e gol, fino ad ora, durante questi primi, dieci minuti, della ripresa, non abbiamo notato nulla, sul nostro dacquino, attacca, la squadra, in maglia blu scura, con, il, l'incozione, di Valera Cordova, di testa, è andato, Trimeliti, Trimeliti, per Benedetti, e quindi a destra, Rasseni, prova a spingere, Pevedi, gli va addosso, Pischetta, direzione di Tomaselli, Tomaselli, sempre presente, sulle, circostanze, che vedono a volte, Forcina, ma a volte anche Pischetta, andare ad agire, dove si trova proprio, il giocatore, diciottenne, della CSL Soccer, pressing alto, di Saraceno, che si sta impegnando molto, per, cercare, di creare problemi, alla difesa, del Fiumicino, quando deve andare, a impostare, quando deve andare, con il giro palla, Benedetti, gira palla, verso sinistra, cambio di gioco, per Forcina, non la colpisce bene, la tiene in campo, forse ci riesce, no, in realtà, poi, se la porta, successivamente fuori, dal rettangolo di gioco, l'attaccante, non gli va permesso, nemmeno un centimetro, anche in questa circostanza, dove lo vediamo, un po', di così, tra virgolette, debilitato, per l'infortunio, che ha subito, durante il primo tempo, però, sembra, anzi, sicuramente, ha recuperato a pieno, ha libertà di agire, va a sinistra, va a destra, va centralmente, può fare un pochino, quello che vuole, e, quindi, ha libertà di agire, l'attaccante, del fiumicino, Peveri, di prima per spirito, buona idea di Peveri, Peveri, il pittore, non riesce, Saracena, poi si sposta, riesce, a non colpire, il pallone, che termina fuori, fa laterale, per i leoni, che alzano questa palla, di testa, va il terzino, Rasseni, fallo laterale, per la squadra, di Riccardo Sperdudi, che, cerca di aumentare, la propria, propensione offensiva, Saraceno, numero, Saraceno, che giocata, Barzellotti, Barzellotti, cerca di convolare a nozze, Barzellotti, prova a tirare, Molonne, che cosa ha tolto dalla porta, Barzellotti, che cosa ha calciato, grandissimo intervento, di Luciano Molonne, al minuto numero 12, della ripresa, davvero, si è sentito, i giocatori, cioè se so che volevano, fortemente questo gol, ma dobbiamo seguire, questo calcio d'angolo, di Spirito, lunghissimo, troppo lungo, anche per, della Camera, che si era gettato in avanti, con Gimbaldo, che era rimasto indietro, ma segnaliamo, questa grande occasione, per Barzellotti, con il tiro, al minuto numero 12, parata di Molonne, che ha deviato, Fiumicino in attacco, dietro, con Trimeliti, Trimeliti, poi, va, nel reparto difensivo, Ciestra Soccer, che, quest'oggi, ha in campo, 8, degli 11 giocatori, si chiama, Salaceno, 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 qui ci ha spezzato, troppo pari di azione, Salaceno, forse doveva tirare prima, è andato a terra, il giocatore avversario, che ha colpito, quasi a peso morto, il pallone, lato c'è, Michele Vittorini, Simon, prova ad avanti, ad aggiarsi, questa direzione, poi l'abito che fischia, possesso di Fiumicino, peccato, può essere la grande occasione, per la squadra, Civile Vecchese, di trovare il gol del vantaggio, e sicuramente si può fare, sta lottando, battagliera la CS Soccer, si sta battendo al meglio, contro la capolizza, di questo campionato, Forcina a sinistra, Forcina, se ne va via, non c'è fallo, Forcina, prova a tirare, Forcina trova un grandissimo gol, Mirko Forcina, e Sultanza, quasi come se indicasse, non so se deve mangiare degli spaghetti, non lo so sinceramente, a Braccia Molon, doppio errore, della CS Soccer, Barzellotti, Sara Ceno, dall'altra parte, il gol a freddo, di Mirko Forcina, vantaggio del Fiumicino, al minuto numero 13, della ripresa, 1-0, la situazione, di punteggio, con la nete, arrivata da parte dell'attaccante, che sembrava aver chiuso la sua partita, a fine primo tempo, ha tirato, questo pallone, radiocomandato, sul secondo palo, niente da fare per Del Dughetto, che è rimasto lì, solamente ad ammirare le gesta, di questo grandissimo attaccante, per la categoria, e ora, la partita cambia totalmente di tono, totalmente di impulso, diventa complicato, tutto in salita, il Fiumicino adesso, può pensare prevalentemente a difendere, mentre la CS Soccer, dovrà lasciare, scoperti alcuni marchi, nella propria, retroguardia, e nel frattempo, ha smesso di piovere, quindi, permettendo anche più, gioco a palla a terra, per entrambe le squadre, soprattutto per il Fiumicino, che abbiamo detto, con quel trinio d'attacco, può garantirsi, tante situazioni offensive, farò laterale per gli ospiti, il Cato è andato lì, via, alla morgia, e poi, si è gettato in avanti, Forcina, non ci ha pensato due volte, quello che forse, non ha fatto Salacena prima, ma ovviamente, dobbiamo dirlo, parliamo di, quei giocatori, opposti anche, per ragioni di età, ragioni di esperienza, questo campionato, Cato Salacena, se ne avesse tirato un secondo prima, poteva avere, una via, più, più snocciolata, verso la porta avversaria, e invece ha trovato, l'intervento, di un difensore avversario, va a terra reale, si riprende però, con la limessa dal fondo, per il Fiumicino, reale, giocatore classi 2002, che ha fatto parte, sia della prima squadra, che fa parte, sia della prima squadra, che dall'anno 19, del Fiumicino, fisicamente non è strutturato, però, è dotato di un'ottima tecnica, e poi si sta anche, disimpegnando, come detto, come Terzino, lui che è strano d'attacco, in realtà, ha anche una grande facilità, della corsa, quindi questo lo può, aiutare, nel giocare, nel pacchetto difensivo, diciassettesimo minuto, Fiumicino 1, CSR Soccer 0, Barzellotti, libertà per Saraceno, vanno un 2 su 2, ancora Saraceno, prova ad avvantaggiarsi, di questa situazione, Barzellotti, non ha spazio per la botta, De Santis, troppo lungo la palla per lui, interviene in maniera stoica, anche dura, sull'avversario, si tocca, la caviglia, Matteo Benedetti, il metronomo del centrocampo, del Fiumicino, il giocatore, che in estate è stato anche provato come mezzala, però, l'impostazione tattica, mi sembra assolutamente ideale, per giocare come mediano, fallo, in favore della CSR Soccer, c'è Spirito, che si avvicina subito, a punta di battuta, vediamo se tenterà la botta, verso la porta avversaria, vanno a protestare quelli del Fiumicino, ma vanno anche a disturbare, Spirito, per non permettergli la battuta immediata, credo proprio che andrà a porta, guardate che ricorsa che ha preso, da lì difficilmente si tenta, un cross verso l'area di rigore, l'incorsa, credo sui dieci metri, vanno in tanti, in quesia per la possibilità di battuta, siamo al diciottesimo della ripresa, c'è Dario Spirito, pronta a calciare, verso la porta avversaria 2 in barriera, per il Fiumicino, pronto l'abito trebbio a fischiare, Spirito, vediamo che cosa si inventa, conclusione potente, Bologna quasi in bagger, e poi rovesciata di Pischetta, dimostra, c'è sta tecnica anche in difesa, e non solamente dall'altra, nell'altra area di rigore del Duchetto, decide di andare verso sinistra, al volo, grande giocata di Di Meglio, grande stop di Di Meglio, che prova a tirare quasi in mezzo, Pischetta di testa alla banda fuori, potrebbe essere una grande occasione, anche se arrivata in maniera, un pochino involontaria, un pochino improvvisata, hanno saputo improvvisare quelli del Fiumicino, in questa circostanza, sul rilancio non perfetto, del portiere del Duchetto, mentre si preparano alcune sostituzioni, vediamo chi potrebbe entrare sul terreno di gioco, se il Fiumicino, forse il Fiumicino dovrebbe tentare una sostituzione, visto qualcuno avvicinarsi alla macchina, per togliersi la pettorina, tempo che trascorre, e il Duchetto rischia tantissimo con Pischetta, che è lì pronto a gettarsi, anima a corpo, non bisogna fare questi giochetti, su Pischetta, perché è un elemento che, ha una vista molto acuta, e quindi può mettere in difficoltà anche del Duchetto queste situazioni, Benedetti, Benedetti alza la palla a destra, per Di Meglio ancora, va Clementucci, poi c'è, forse è stata una gamba tesa, della squadra di Luigi Di Luocco, e quindi punizione, per le maglie rosse, Barzellotti troppo lento qui, non gliela ha chiamata nessuno poi, fuori di poco, con occasione, Di Meglio ha tentato, il gol alla Tabarini, come ha fatto domenica scorsa Tabarini, da centrocampo ha visto la porta sguarnita, ha tentato di segnare, al minuto numero 19, occasione per il Fiumicino, con il tiro da centrocampo, praticamente, era praticamente all'interno, del cerchio di centrocampo, l'attaccante della squadra ospite, il tiro di lui che ha giocato anche con il Campus Eur, con il Palocco, l'anno scorso ha dato un grande contributo, alla salvezza del Santa Maiella, con tanti gol realizzati nella seconda parte del campionato, lui che era arrivato a dicembre, proprio alla corte di Raffaele Morelli, la morgia al volo, fa terra Vittorini, c'è il fallo, fischiato in favore del giocatore che indossa questi scarpini, arancioni, c'è Spirito, che mette subito palla a terra, non credo andrà con la botta, rigioca subito, con Michele Vittorini, cerca di mettere in difficoltà, Gabriele Rasseni, ma al classe 2000, riesce a farsi valere, anche se il fallo del Ale per la CSL Soccer, che cerca di andare avanti, siamo al ventunesimo della ripresa, se lascia lo scarpino Ivan Saraceno, Forcina attiva anche in difesa, ancora prova a mantenere il proprio forcing, la CSL Soccer, ma il possesso in questo momento, e per i giocatori che vestono la maglia blu, anche di testa Forcina, senza nessuna paura, anche con la testa, è andato su questa sponda, a 80 metri dalla porta, dimostrare il suo grande talento, la palla lunga, e Clementucci, non è riuscito a metterci il piede, c'è andato Tomaselli, Clementucci che si lamenta, con le braccia rivolte verso il guardaline, c'è la sostituzione, ci sono delle sostituzioni, pronte a entrare in campo, De Logu per la CSL Soccer, dall'altra parte, non vediamo al momento nessuno, e quindi chiamata la sostituzione, appena uscirà il pallone, dalle trene ogni gioco, vediamo chi è che uscirà, sarà Peveri, quindi un 4-2-3-1, diventerà per la CSL Soccer, con l'ingresso di De Logu, il posto di Peveri, e la margia finta, che manda a vuoto, Pischedda si vede, la frenata, e l'andata a terra, di Andrea Pischedda, del Duchetto, sul versante di destra, e si mette in difficoltà qualcuno, Vittorini, di versione, di Rasseni, che va con la nuca, e poi, pallone che sbatte, su Forcina, nuovamente, Ileoni, a sinistra, con, l'imperversata, di Ivan Saraceno, per Peveri, l'ultima giocata di questa partita, per lui, grosso e mezzo, e stanno, vedete, palla che va a toccare, la parte alta, rispetto alla traversa, ecco, quindi la sostituzione, l'ultima giocata, dedicata a Peveri, al minuto numero 22, quindi, questo cambio, l'ingresso di, Davide Delogo, sul terreno di gioco, se non sbaglio, lo stesso cambio, di domenica scorsa, quando il Pesce Romana, è andato avanti, 2-1, col gol di Bisozzi, è trovato totalmente a memoria, solamente entrò, un attaccante apposta, un centrocampista, e poi uscì, un attaccante, per un centrocampista, quando ci fu la letta, del 4-1, per la squadra, Bianco Celeste, che era tornata a vincere, dopo due sconfitte consecutive, vediamo anche i prossimi impegni, perché, eh, la Ciestra Soccer, andrà a giocare, questa volta, a Fiumicino, per la precisione a Fragene, domenica prossima, domenica 24 novembre, per la gara contro il Fragene, Maccalese, mentre il Fiumicino, avrà, come detto, lo scontro importante, con i Cervetri, che potrebbe anche essere, fondamentale, nell'ottica di questo campionato, la Borgia, il primo tocco, non va bene, il secondo, decisamente sì, Fiumicino, ancora in attacco, con Pischedda, gioca, anche in maniera, un pochino leziosa, adesso, l'attaccante, della squadra, Fiumicinense, Capitan Benedetti, per Pischedda, che rinviene dietro, per dare qualità, alla manovra, del Fiumicino, e De Santis, che la prende, qui si può lasciare andare, toccato sulla gamba, la metta questo, Pischedda, un tocco di De Santis, con lo scarpino, sulla propria gamba, il gioco che prosegue, anche se però, l'arbitro, non aveva indicato, la ripresa, delle ostilità, poi domenica, primo dicembre, CS Le Soccer, che giocherà nuovamente, qui in casa, contro la Luis, di Cristal Edesma, per cui, ci attendiamo un bel pubblico, anche per vedere, qui, nuovamente a Cirecchia, Cristal Edesma, che l'è venuto, per Santa Maria, della Luis, partita, qui c'è stato, anche Andrea Giovagnoli, come guardaline, però in quel caso, si giocò, Altamagnini, sperduti, non proprio, grande aggancio, però fatto a stare, che serve subito, la morgia, De Santis, Vittorini cambia gioco, cerca De Locu, che sta giocando, l'arca a sinistra, di petto, per Barzellotti, Barzellotti, di seconda, per Tomaselli, fallo di Tomaselli, un pochino frustrato, in questa circostanza, l'arbitro, lo varia da ruile, lo minaccia anche, della munizione, di mani a terra, adesso, Antonio Clementucci, lui che è anche, debuttato in Serie D, con, l'SFF, atletico, dove ha fatto parte, delle giovanili, lui che ha giocato, anche come terzino sinistro, il centrocampista, del Fiumicino, poi quest'anno, anche giocato, in Serie D, inizialmente, con, l'atletico Terme Fiuggi, perché, abbiamo detto già, nel primo tempo, c'è stato questo cambio, di città, quasi cambio di franchigia, come si dice, del basket, nell'NBA, per, l'atletico, ex Fiumicino, ora, a Fiuggi, sotto le terme, punizione, Forcina, terra, si rialza, lentamente, Forcina, adesso, gioca anche, un cronometro, il Fiumicino, guadagna, qualche secondo, siamo giunti, al 26esimo, mancano 20 minuti, al termine, di questa partita, adesso, nubi, leggermente, più dilatate, visto che, le indicazioni, al medio, dicono, che ci sarà un pomeriggio, abbastanza tranquillo, su Cidecca, anche se, il mare, è sempre minaccioso, al momento, vediamo anche, delle navi, presenti, non lontano, rispetto alla nostra postazione, diciamo così, parallele, rispetto alla nostra postazione, qui, dallo skybox, del Flavio Cagliardini, stacco di testa, di Rasseni, poi lascia, sfilare, lascia rotolare, il pallone, fuori, la morgia, la stella cometa, per il Re Vittorini, cambia nuovamente il gioco, questa forza è un'idea di sperduti, cercare di andare sulle fasce, questa volta per Tomaselli, cerca De Logu, l'arbitro fisca, perché, il pallone è terminato fuori, rispetto, alla linea perimetrale, del campo, Gibaldo, anzi, della camera, è andato di testa, il, il generale, poi, scontri a fuoco, a centrocampo, con, De Logu, De Santis, Vittorini a destra, ecco il regazzo di Canale, Monterano, Simon Rossi, verso l'area di rigore, a cercare ancora De Logu, non è uno staccatore di destra, è quello che qui si è visto, perché la valla, è davvero molto alta, c'è Barzellotti, tutta a destra per Spirito, non si intende di due, è un legamento che non riesce, Spirito e Barzellotti, diciamo così, non, sono rimasti contenti, di questa situazione, entrambi si lamentano l'un l'altro, è una situazione che ci può stare, anche se bisogna pensare, già alla prossima, potenziale occasione, per cercare di, sviluppare un tema, tecnico, tattico, per, pareggiare, quantomeno questa partita, è già un pareggio, non se ne è un cattivo risultato, per la CS Le Soccer, stante, il risultato di una zero, grazie al gol, realizzato da Mirko Forcina, al minuto numero 13, della ripresa, con quel bel tiro sul secondo palo, che è terminato quasi a fil di palo, Davide Delogu, Davide Delogu, drin drin, drin drin, drin drin, ne ha due addosso, a sinistra, non riesce l'aggancio di Ivan Saraceno, peccato Delogu, che si è sistemato, ora come trequartista, con Saraceno largo a sinistra, Michele Vittorini, largo a destra, e centralmente, c'è la presenza di Dario Spirito, in pacchina, per il fiumicino, ci sono, Pompei, De Franco, Cavanni, Giacinti, Campa, Maresca, Diorio, Cuomo e Centi, mentre per la Ciestra Soccer, tolto da Delogu, entranti in campo, ci sono D'Angelo Antonio, Marini, Tiziano Campani, Quinti, Rasi, Funari, Gallina e Mignanti, non c'è già Marco Campani, ancora non è meglio della condizione, lui però sembrava essere, rientrato nei ranghi, dopo le ultime prestazioni, che abbiamo visto, le scorse settimane, va via sulla fascia, Delogu, però anticipato da Reale, che poi, credo, si porta il pallone fuori dal rettangolo, il gioco, si gioca con Saraceno, prova a far uscire alcuni dal cilindro, Saraceno, tra l'ana di vigore, non riesce, l'imbucata per Vittorini, si salva il Fiumicino, con la CSL, che è molto pericolosa in questi frangenti, con i suoi avanti, riesce tramite queste giocate, nello stretto, attacca Forcina, ha troppo spazio, bisogna andare addosso, la Morgia un pochino, il ritardo, la Morgia ci va, la Morgia è qui, è andato a terra da solo Forcina, è andato a terra da solo Forcina, è provato d'esperienza, la Morgia non ha fatto niente, per fare fallo, sull'attaccante esperto, classe 92, del Fiumicino, inizio stagione, è anche rimasto infortunato Forcina, è rimasto fuori, perché è squalificato, poi infortunato, e quindi non ha giocato quasi mai quest'anno Forcina, è il suo primo gol in questo campionato, quello che ha fatto, in mano a terra, e gli viene chiesto un cambio, è Cordova, nuovamente, a parlare con la panchina, c'è un problema, sono sbagliato per Bove, dovrebbe essere lui, che è rimasto vittima di questa situazione, subito una botta, forse anche qualche giramento di testa, no, si tocca la gamba, chiede il cambio lui, chiede il cambio Marco Bove, e ora, parlano con Di Duoco, per cercare di, far arrivare subito la sostituzione, perché, ricordiamo che, Bove è un difensore centrale, per cui, lascerebbe, campo aperto alla CS Soccer, qualora, dovesse, di manere in campo, ma non nelle migliori condizioni, un doppio cambio, per il Fiumicino, dentro, Campa, e dentro anche Cuomo, per la squadra ospite, al minuto numero 30, di questa ripresa, siamo alla mezz'ora, vediamo chi esce, uno è sicuramente Bove, poi vediamo, qual è la sostituzione, fuori Pischedda, per il Fiumicino, e fuori, come detto, anche Bove, ora cerchiamo di fare un pochino ordine, per gli ospiti, allora, vediamo, quindi, questa è l'uscita di Marco Bove, dalla mano, al proprio compagno di squadra, è l'ingresso di, eh, Campa, che va a sistemarsi, nel pacchetto difensivo, in mezzo alla difesa, e credo, vada in attacco, l'altro Cuomo, Cuomo, centrocampista, si chiama Giovanni Giuseppe Cuomo, per tutti i gianni, è un jolly, di questo Fiumicino, può giocare in diversi ruoli, e l'altro è Giuseppe Campa, altro giocatore, molto esperto, gioca a Trimeliti, sul settore di sinistra, dietro, lo scambio con Cordova, si affida a Molon, con tranquillità, la getta lontano, De Santi di testa, il Rottaweiler, per Vittorini, che poi va nel reparto difensivo, Gibaldo della Camera, che si stacca, quindi Gibaldo è libero di impostare, poi arriva nuovamente della Camera, va andare a impostare l'azione, lancio in avanti della Camera, Spirito, con una bella idea, però non trova compagno di squadra, arriva proprio il nuovo entrato, Cuomo, su quella situazione, Trimeliti, per di meglio, che ora avrà più compiti offensivi, e grande aggancio, quello del nuovo entrato, Giovanni Giuseppe Cuomo, e quindi conquista, il calcio d'angolo, il Fiumicino, grazie a questa iniziativa, sulla fascia sinistra, poi è entrata anche la rigore, quindi andiamo ad annotare, il secondo corner, per il Fiumicino, vediamo anche, che per la CS, la Soccer è squalificato Marco Aldi, dopo l'espulsione domenica scorsa, dalla panchina, palla e mezzo, allontana Spirito, quindi alla fine, del ballottaggio, tra la morgia e della Camera, Sperdute ha deciso di mettere, entrambi in campo, si è fatto male Barzellotti, si è fatto male Barzellotti, al braccio, Dolori, per lui, ma la CS, lo so che non si ferma, si rialza Barzellotti, con un volto, assolutamente pitreo, però il gioco prosegue, stringe i denti, Gianluca Barzellotti, e Bart, che va a riversarsi, sulla trequartico sfido, che entra in anicone, sta facendo che si propone, per sviluppare il gioco, perde il pallone, quindi c'è il Fiumicino, che può ripartire, ancora con Gianni Cuomo, va a terra, Cuomo, non c'è fallo, ancora Cuomo, va a terra da solo, scivolato da solo, sulla seconda situazione, gioca Barzellotti, Delogu, largo sulla fascia, Delogu, punta reale, reale, gli alla ruba, anzi no, il tocco di Clementucci, De Santis a destra, Vittorini, aggancia il pallone, Vittorini, in tornare in vigore, sbatte, su Di Meglio, che si era portato, anche in difesa, che in panchina, qualche gesto di disappunto, per questo errore, da parte dell'attaccante, della CSL Soccer, c'è della Camera, il generale, per Spiritolo, a scatola magica, in mezzo a due avversari, libertà per Tomaselli, che lascia lì, arriva a rimorchio, anche Dario Spirito, sulla tre quarti, c'è Salaceno, che spesso si sposta, con Delogu, Ivan Salaceno, largo per Tomaselli a sinistra, Delogu rimane dietro, Tomaselli, prova a tirare, la parata, del portiere Molon, Tomaselli ha fatto tutto, di testa sua, diciamo così, ha visto lo spazio, ha fatto bene a tirare, Antonio Tomaselli, anche se, non è riuscito, a trovare la via della rete, deviazione, non perfetta, quella di Molon, peccato, perché non c'era nessuno nei pressi, per poter andare sulla dibattuta, ancora Antonio Tomaselli, che si è preso libertà, in questa circostanza, Barzellotti, per De Santis, in cabina di Legia, De Santis, controlla la situazione, anche dall'arrivo, di Clementucci, c'è Saraceno, pensa alla conclusione, tutt'altro, che ottima, questa conclusione di Ivan Saraceno, bloccata a terra, da Luciano Molon, dal portiere, classe 88, che, è stato anche capitano, del Fiumicino, quindi questo, ha scatenato anche, diciamo così, tra virgolette, le ironie, per lui, che è stato, un asso, dell'Ara Nova, in passato, a sinistra, per di meglio, va via, un avversario, si tratta di La Morgia, De Santis, lo ferma in qualche maniera, Cuomo, lunga, troppo lunga, per Clementucci, e poi del Dughetto, che blocca, Molon, che, che, ha, rimasto, al Fiumicino, nonostante le tante offerte, ricevute in estate, c'è un cambio, fuori, va, andrà a Saraceno, tra poco, l'ingresso di Lassi, quindi, più muscoli, più centimetri, per la C.S. Soccer, in questi ultimi minuti, Cuomo, a sinistra, Gianni Cuomo, punta La Morgia, va in mezzo, e poi il tiro di Cuomo, traversa Clamorosa, del Fiumicino, Gianni Cuomo, ha tentato la botta, da altri quarti, non l'ha messa dentro, per fortuna, della C.S. Soccer, andiamo a segnalare, questa situazione, al minuto numero, 34, con Cuomo, che ha trovato la traversa, con il tiro, dalla lunga distanza, sui 25 metri, 28 metri, più o meno, la sostituzione, per la C.S. Soccer, come detto, già in precedenza, va fuori, Ivan Saraceno, minuto 35, l'ingresso di Kevin Rasi, un cambio, che va spiegato, in una sola maniera, Rasi, più alto, rispetto a Saraceno, palle alte, in avanti, serve una punta, di razza, diciamo così, non che Saraceno, non lo sia, però, Rasi può garantire, anche, la possibilità, di andare su queste dibattute, come non è venuto in precedenza, per il tiro di Tomaselli, c'è De Santis, Gibaldo, avanza, devono avanzare anche i dimensioni, in questo momento finale, della partita, di testa, non è entrato Campa, buona, per Michele Vittorini, dietro, lascia Spirito, per De Santis, di reazione, di Benedetti, a sinistra, c'è il nuovo entrato Cuomo, che si sta facendo molto vedere, già diverse volte, che lo nominiamo, in questo match, che sta eseguendo gli occhi, di Alessandro Sacco, De Santis, Spirito, tiene lì il pallone, cerca di perfezionare, cerca di aggiungere, piedi di seta, a quest'azione della CSL Soccer, Gibaldo, ormai vertice alto, praticamente, poi spazza, il divenzione, e Cordova, per il Fiumicino, falo aderale, per i patroni di casa, ci sono ancora otto minuti e mezzo, per il tempo regolamentare, di meglio, colpito al piede, da De Santis, che non dirà dietro assolutamente, la gamba, e ci sta mente, in un finale, di questa partita, con Città, da comunque sia, decisamente tranquillo, non abbiamo visto praticamente, polemiche, durante l'incontro, né da una parte, né dall'altra, Forcina, indica il passaggio lungo, voleva forse lui il pallone, si va arrattato a Cuomo, che contrasta Gibaldo, Gibaldo lo tiene lì, poi, quasi sulla lunetta, di meglio, Forcina, ci prova come prima, è un bel tino, ma questa volta non va, a andare a ridisegnare, l'incrocio dei pali, andare a togliere, il classico ragno, che si troverebbe, all'incrocio dei pali, si riprende, nell'area di rigore, con Gibaldo, deve stare molto attento, Forcina, va lì, con le ultime gocce di benzina, Mirko Forcina, non ci arriva Benedetti, Rasi, Caimirasi, spirito, ancora Rasi, due giocatori rassati, che si scambiano il pallone, Rasi, trimeliti, ferma tutto, tallona Caimirasi, e permette ai suoi, di guadagnare il possesso, altro, il fiumicino, ha la miglior difesa, del girone, ha sempre vinto in casa, è arrivata a tre vittorie consecutive, Cuomo, anima e cuore, di questo finale, del fiumicino, questo è il compito, che gli ha riservato, il vestito, che gli ha dato, Mr. Di Duocco, per questa partita, Forcina di mano a terra, forse stanchissimo, non ce la fa, probabilmente a proseguire, gli gira la testa, gli gira la testa, e questo punto, il cambio, secondo me, è obbligatorio, perché, se gli gira la testa, è meglio andare a cautelarsi, mancano sei minuti e mezzo al termine, pronto a entrare, anche Quinti, per dare più benzina, al centrocampo della CS, la Soccer, pronto il classe 2000, che abbiamo già visto diverse volte, ultime indicazioni di Sperduti, vuole il passaggio filtrante, Rieto Sperduti, insomma, è una cosa abbastanza basilare, da capire, in questo momento finale della partita, fuori Barzellotti, forse è stanca anche lui, forse anche per quella botta, subita in precedenza, ingresso quindi, di Quinti, scusa per il gioco di parole, che è arrivato, anche questa volta, in maniera intempestiva, Forcina, si rialza, speriamo che sia solamente, un momento temporaneo, per Mirko Forcina, diciamo noi, sei minuti al termine, stanno chiedendo alla panchina, quanto manca la fine del match, sei minuti più recupero, che dovrebbe essere, nell'ordine dei quattro minuti, sono stati cinque cambi, in questo secondo tempo, quindi, tre minuti, li prendiamo, un minuto per questa cosa, di Forcina, quindi penso quattro minuti, possono essere accordati, da parte del direttore di gara, ma se fossero cinque, non è che ci lamentiamo, soprattutto, tutt'ostante la situazione che c'è, in questo momento, mentre Barzellotti, va verso gli spogliatoi, c'è Del Duchetto, altro cambio, l'ingresso di Centi, Leonardo Centi, per il Fiumicino, minuto 39, di questa ripresa, vediamo chi è, a questo punto, è Forcina che esce per Centi, non c'è bisogno di andare a cercare, chi è che sta, eliminandosi dalla partita, dal punto di vista, delle sostituzioni, Centi va subito in attacco, Leonardo Centi, un classi 2000, un attaccante, gioca anche con l'Under 19, ha anche segnato il gol decisivo, per l'1-0, sul campo della Numule, a qualche settimana fa, l'altro ieri il Fiumicino, anno 19, ha fermato il Tortra Teste, che è una delle squadre più forti, del campionato, diciamo una specie di, sciessele Fiumicino, di quest'oggi, però al contrario, il Fiumicino che partiva decisamente, svantaggiata rispetto, al Tortra Teste, c'è, un fallo, un fuorigioco di dentro, credo di Vittorini, infatti Vittorini sta protestando, con il guardalinee, il fratello di Manuel e Cristian, 40 e 30 sul cronometro, Monticimini che sta facendo benissimo, anche con il successo, arrivato domenica scorsa, contro il Real Motronondo Scalo, da quello che avevamo visto durante l'intervallo, si sta rifacendo con i CIE, che ovviamente non siamo informati, in questo preciso momento, su quello che sta accadendo, in terra e retina, 40 e 55, 4 al termine, vicino anche ad Esperienza, sta gestendo i ritmi di questo secondo tempo, Vittorini in tre anni di vigore, Vittorini, fuori di poco, l'arbitro che fischia, però è un fallo in attacco, credo un fallo di mano di Vittorini, ovviamente ha cominciato qualche messaggio diverso, pallone che si perde, per i meandri del Flavio Gagliardini, arriva la palla della macchina per Molon, diciamo che il vicino sta anche giocando con i ritmi, gli sta abbassando notevolmente, d'esperienza, sta cercando di incamminare tre punti, anche quest'oggi, sarebbe il quarto successo consecutivo, vista domenica, in cui anche Fregassa, e da Ponte, gli altri giocatori del Cerveteri, sperano un successo della CSL Soccer, a sinistra De Logu, De Logu, punta reale, arriva Trimelite a disturbarlo, ancora De Logu, De Logu, supera anche di meglio, De Santis, cica a conclusione, e poi si salva la squadra ospite, con il tocco di Rasseni, va a vuoto praticamente Cuomo, Michele Vittorini, sulla posizione, di De Logu, Rosso e mezzo, e Molon in due tempi blocca, il pallone, la sfera gialla, siamo giunti al 43esimo, mancano tre minuti, al termine del tempo regolamentare, ultimi frangenti del match, Molon più lontano che può, per di meglio, che è più veloce di tutti quelli della CSL Soccer, di meglio, non controlla perfettamente la sfera gialla, di meglio, tenta forse la botta, fuori di poco, un grande occasione, parla che si parla forse più vicino al palo, conclusione di Di Meglio, che andiamo quindi a segnalare al minuto numero 42, CSL Soccer, che però secondo me ha fatto più tiri, rispetto al fiumicino, verso la porta avversaria, però il gol di Forcina, sta decidendo la situazione di questo incontro, del Duchetto, tutta a sinistra, per Antonio Tomaselli, Antonio Tomaselli avanza, ne supera due, galoppa, quasi imitando Avier Sanetti, poi c'è il fallo conquistato proprio da Antonio Tomaselli, fermato, sul tentativo di superamento in velocità, c'è un'ammunizione, per, ha segnato un due l'arbitro, però, è stato ammonito, reale, segniamo quindi, è ammonizione reale, anche se il fallo mi era sembrato, da parte di Trimeliti, però, l'arbitro ha segnato un due, al proprio guardaline, punizione per Spirito, sono in tanti lani di gore, Spirito dovrebbe pensare anche, la botta verso la porta di Molon, però mi sembra, buona giornata Molon, ha fatto quel grande intervento su Barzellotti, 43-30, scavetto, Spirito Vella Morgia è fuori gioco, fuori gioco, di parte della CSL Soccer, credo con Quinti, addirittura, sul secondo palo, può andare in mezzo, per Andrea Lamorgia, ma, non c'è stata, non c'è stata situazione, per poter pareggiare questo incontro, fra poco inizierà l'ultimo minuto, di questo match, poi andremo ad attendere, quali saranno le indicazioni, per il recupero di questo match, Valle Fiumicino, non è che si stanno sbrigando, per ricominciare a giocare, ovviamente ci sta, questi momenti finali, però questo anche a, segnalare che Fiumicino, sta soffrendo, in questa partita, ha sofferto in questa partita, contro la penultima forza del girone, questa dimostrazione, che la CSL Soccer, può uscire da questo momento, sicuramente la prestazione, è stata convincente, per il rosso blu, Civita Vecchiesi, ma il risultato, non sta arrivando per ora, attendiamo indicazioni, dall'arbitro, per l'extra time, della ripresa, la palla rimbalza, arriva a spirito di testa, prepara all'ultimo cambio, la CSL Soccer, e Gallina, pronto ad entrare, sul terreno di gioco, per il recupero, fallo, fallo che non arriva, forse vantaggio, e arriva adesso, il fallo fischiato, da parte dell'arbitro, ai danni di Teloco, ammunizione, per quanto riguarda, il fiumicino, con il giallo, che è stato dato, al reale, quindi non è la prima, ammunito lui, quindi diciamo, adesso ammunito reale, e prima Trimeliti, così almeno sistemiamo tutto, preparano i cambi, le due squadre, c'è anche Giacinti, per il fiumicino, il recupero, non è stato ancora indicato, quello che stiamo cercando di capire, sostituzione, per il fiumicino, con l'ingresso, di Francesco Giacinti, sul terreno di gioco, c'è la punizione, c'è ancora un pochino di, di situazioni burocratiche, da risolvere, c'è questo cambio, quindi dentro Clementucci, c'è fuori Clementucci, al minuto 45, e l'ingresso di Giacinti, e ora tocca la CSR Soccer, vediamo se fa entrare subito Gallina, la squadra di Riccardo Sperduti, si attende questa punizione, recupero che è di 5 minuti, stiamo cercando di capire, l'indicazione del direttore di gara, quindi 5 minuti di recupero, vediamo il spirito che va, la battuta in mezzo per De Santis, non riesce a diventare verso la porta, calcio d'angolo per la CSR Soccer, ultimi raggiunti di questo match, siamo al 47esimo, c'è De Logu, che va a raccogliere il pallone, con Gibaldo che voleva battere subito, ma è sicuramente il giocatore più indicato, la battuta del corner, in tanti in mezzo, arriva la palla sul primo palo, di testa il nuovo entrato, centi per il Fiumicino, ora il cambio, viene chiamato a gran voce da Ciro Cossolino, anche da Alex Gallina, De Logu, ma si prosegue, De Logu, di reazione, di Di Meglio, Di Meglio, Di Meglio a tenerli di grande esperienza, fa prassare qualche secondo, va alla partita, non si ferma, c'è Spirito, che vuole avanzare, siamo a 30 metri dalla porta, in mezzo per Rasi, Rasi, di testa, c'è Cordova, e poi c'è Benedetti, che allontana, va a terra Benedetti, quindi si perderanno altri secondi, quindi andiamo a effettuare subito il cambio, così almeno si perde meno tempo a munizione, per Francesco De Santis, quindi altro giorno andiamo a segnalare, l'unico diffidato e spirito per la CSL Soccer, per cui non ci saranno provvedimenti, del giudice sportivo, per Francesco De Santis, ma anche per gli altri ammoniti di questa partita, diamo il cambio, che sta per essere effettuato, fuori, fuori Tomaselli, per la CSL Soccer, al minuto 47, e l'ingresso, di Gallina, quando mancano, due e mezzo al termine, è chiamato anche Gravoce, l'ingresso di Gallina, per perdere meno secondi possibili, e Tomaselli che rimane lì, ad abbevelarsi, praticamente vicino, alla tettoia, che porta gli spogliatoi, sono passati a tre secondi, vediamo se l'arbitro allungherà il recupero di un minuto, per ora sono passati tre minuti, ne sono ancora due, almeno in questo preciso momento, c'è Quinti che recupera il pallone, Quinti che si sposta verso sinistra, contrastato da Di Meglio, e Quinti che prova ad avanzare, c'è il fallo su Andrea, Quinti, quindi punizione per la CSL Soccer, che ora deve andare, con tutti i giocatori in avanti, deve andare ad assaltare la porta avversaria, per questi frangenti finali, che chiede un altro cambio, il più vicino, che non viene accordato, è del duchetto, che si incandica di questa battuta, e Spirito che va in avanti, tutti verso la lunetta dell'area di rigore, sono praticamente presenti in 7-8 giocatori, per la CSL Soccer del duchetto, pronta a lanciare in avanti, la palla dentro l'area di rigore, verso Spirito, comunque sia la prende il fiumicino, De Logu, a sinistra per Alex, Quinti, Quinti per Gallina, Gallina tiene lì, eccolo, occhi di caccio, per della camera, tutta a sinistra, un lancio clamoroso al volo, comunque sia, la CSL Soccer, palla dentro l'area di rigore per Rasi, Rasi non ci può arrivare, di testa, la zuccata, l'incornata di Cuomo, e di parte di meglio, di meglio sfugge il pallone, benissimo, qui la morgia, dietro, per della camera, e quindi c'è, anche la presenza di Alex Gallina, con Gibaldo, ormai praticamente in attacco, con le mani alzate, addirittura, Benedetti, per non permettere, l'immediata, prosecuzione, dell'azione, altra munizione, per il Fiumicino, arriva il giallo per Benedetti, quando siamo giunti al cinquentesimo minuto, mancano 40 secondi al termine, vedremo se ci sarà, anche, un altro minuto di recupero aggiuntivo, con il Dughetto, che chiede andare avanti, ed è il Dughetto, che si accetta nella rigore, anche lui, arriva anche nel portiere della CSL Soccer, lui che ha fatto, con il piano di torri, dinamichevole, prima partenza del campionato, e c'è pronto della camera, pronto a lanciare, in avanti, il generale, pronto al capitano, che però in realtà, deve andare avanti, Lucco Petoni di testa, andare a cercare di colpire, con la fronte, verso la porta avversaria, quindi lascia il compito, Davide, è pronto, l'ex della compagnia portuale, a crossare verso la rigore avversaria, e gli ultimi secondi, di questa partita, che stiamo seguendo, con trepitante tensione, qui, dallo skybox, del Fairo Cagliardini, 70, ancora un attimo, prima della battuta da munizione, all'arbitro, che sta sistemando, a quelle situazioni, bluorratiche, perché c'è ancora un'altra sostituzione, c'è Rasseni, al minuto numero 50, che viene sostituito, e l'ingresso sul terreno di gioco, di Gabriele De Franco, che però, questo momento ovviamente, non ci prende, pienamente, con gli occhi, andiamo quindi, a seguire gli sviluppi, di quella che probabilmente, sarà l'ultima azione, di questa partita, Davide Delogo, pronto a crossare verso la rigore, c'è anche Del Ducchetto, che si è emesso, nella zona di destra, è Delogo, che è pronto ad andare alla battuta, adesso, tenta, verso la rigore, tenta Gimbaldo, di destra il fiumicino, Rassi, prova a andarci, De Santis, la palla è per Spirito, no, fuori gioco, fuori gioco di Dario Spirito, quindi si interrompe il gioco, non sarebbe stato gol, qualora la palla fosse terminata, all'interno della rete, della squadra aeroportuale, vedremo, se questa è stata, l'ultima possibilità, del Ducchetto, che rientra in porta, rimane a terra, campa, per il fiumicino, e trascorrono quindi altri secondi, vediamo se l'ambito, nel frattempo guarda il cronometro, e al Flavio Cagliardini è finita, il fiumicino si impone di misura, sulla CSL Soccer, 1-0, decide il gol di Mirko Forcina, al tredicesimo della ripresa, ma ovviamente, ci sono grandi recriminazioni, per la CSL Soccer, anche per il rigore sbagliato, da Saraceno, al minuto numero 39, della prima frazione, quindi, possiamo andare in conclusione, di questa telecronaca, dal Flavio Cagliardini, ringrazio, Alessandra Sacco, grazie su occhio, che hai visto questa partita, un saluto da Giovanni Infinelli. Grazie.